Bene, un po' di silenzio, giusto per porgere i saluti a tutti voi e per dare davvero un caloroso benvenuto a un nuovo amico che è il dottor Limitone, giudice delegato del Tribunale di Vicenza. Lo abbiamo per la prima volta qui e poi speriamo che sia contento della nostra ospitalità e che torni spesso anche negli anni che verranno. Ovviamente abbiamo anche un affettuoso abbraccio da dare a un nostro traditore, ma sempre grandissimo amico, che ha un cordone umbilicale particolare. No, no, assolutamente, sempre nei nostri cuori il dottor Farolfi e lo avremo anche tra un po' a metà maggio sul convegno delle locazioni. Naturalmente è un grazie particolare anche al nostro collega Avvocato Soldati perché ha fatto tanto per la Fondazione e continua a farlo, quindi gli siamo debitori dell'organizzazione anche di questi conveghi. Gli argomenti all'ordine del giorno di oggi sono non usuali ma comunque veramente interessanti e sarà bello ascoltare anche le soluzioni che i relatori ci proporranno. Quindi chiudiamo qui e ci mettiamo ad ascoltare le loro relazioni. Comincerà, credo, il dottor Limitone perché poi dovrà lasciarci per andare a un altro convegno a Cortina. Vi ringrazio davvero tutti della vostra simpatia, insomma, del fatto di aver pensato a me per venire in questo bellissimo posto. Ho assaggiato l'aceto balsamico che per voi è di casa ma per me insomma è una novità. Devo parlare di una legge, la legge sul sovraindebitamento, è una legge che è stata concepita sin dal 2011, entrata in vigore nel gennaio 2012 come legge numero 3 del 2012, è stata successivamente modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179, convertito in legge con modifiche il 19 di dicembre e entrata definitivamente in vigore con le modifiche il 18 gennaio del 2013. Quindi la legge di riferimento numero 3 del 2012 con le modifiche entrate in vigore il 18 gennaio del 2013, insisto perché le modifiche sono talmente importanti, incisive, che ne hanno fatto un impianto completamente diverso. Ma partiamo da lontano, partiamo dagli anni 2000, io direi dall'introduzione dell'euro e la conseguente diminuzione del potere d'acquisto del cittadino, il boom del credito al consumo che fino a 15-20 anni fa si immaginava soltanto per i privati con riferimento ai beni di grande valore come la casa di abitazione, lì si ricorreva al prestito. Adesso con l'espressione credito al consumo si fa riferimento all'indebitamento per beni di prima necessità e quindi anche solo per andare all'ordinario, per acquistare la macchina oppure per andare in vacanza o per comprarsi il vitto. E insieme al credito al consumo hanno avuto il boom le società finanziarie, cioè quelle società che in luogo delle banche concedono prestito anche quando il soggetto non sarebbe un soggetto solvibile o finanziabile normalmente. Tutti voi siete operatori, quindi sapete bene di cosa sto parlando e per chi siamo qui nella Camera di Commercio di Modena, che pure ringrazio per l'ospitalità, per chi ha in mano i dati potrà riscontrare facilmente come le finanziarie siano passate dai primissimi anni 2000 nell'ordine numerico di qualche centinaio, sotto il numero 1000 comunque sull'intero territorio nazionale, potevano essere circa 7-800, fino quasi a decuplicare, oggi arriviamo a migliaia, cioè si contano in termini di migliaia le finanziarie, cioè quei soggetti che prestano soldi in luogo delle banche. E tutto ciò è andato aggravandosi per effetto della crisi economica, gli stipendi non sono aumentati e questo ha generato l'insolvenza che prima era occasionale, oggi invece è un fenomeno quasi endemico del soggetto cosiddetto civile, del debitore civile. Insieme è arrivato l'aumento importante del costo della vita sui beni essenziali e sotto gli occhi di tutti la benzina, le bollette, i beni di prima necessità, tutto aumenta, gli stipendi no e quindi il potere d'acquisto è sempre più depresso e come avviene in tutti i casi in cui un bisogno lo impone, arriva poi la regolamentazione legislativa di questo bisogno. La legge arriva sempre come regola di un fatto economico, non è mai l'inverso, cioè non c'è prima la legge e poi il fatto economico, prima sorge il bisogno ed è un bisogno essenzialmente economico, oikos dal greco casa, cioè un bisogno che riguarda la vita, è un bisogno che riguarda l'individuo e poi interviene la legge a regolarlo, questo sempre, tanto che Hegel parlava del canto della civetta come qualcosa che arriva la sera, il legislatore legifera dopo che la giornata ha espresso le sue esigenze e quindi è arrivata questa legge, nell'ottica della regolazione della crisi del non imprenditore, diciamo, del debitore non fallibile. Rimedio quindi all'insolvenza che è diventato un male endemico ormai, ma anche, attenzione, rimedio generale pensato e voluto, anti-usura, non dimentichiamo che la collocazione di questa legge è nell'ambito di un più ampio provvedimento normativo che è intitolato modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione, a seguire la procedura di composizione della crisi del sovraindebitamento. Ora, quel sovraindebitamento, si lascia intendere, può anche essere di peso dall'usura, cioè il fatto di aver avuto bisogno di ricorre all'usuraio. Pensate quale immenso strumento di bonifica può essere questo, sebbene utilizzato, e sarà in mano a voi, in mano noi professionisti, quale immenso strumento di bonifica proprio contro questo male dell'usura. Perché, e qui arriviamo alla terza finalità di questa norma, la prima abbiamo detto rimedio per l'insolvenza del debitore civile, la seconda rimedio generale contro l'usura, e infine la sua finalità principale è quella di riportare a livello, cioè ad ugual trattamento, l'imprenditore sotto soglia non fallibile, e tutti gli altri soggetti ovviamente, rispetto a chi potendo fallire, pensate cosa siamo arrivati a dire, potendo godere del beneficio del fallimento, sembra strano, ma in realtà può anche godere del beneficio dell'esdebitazione. Quindi, vediamo il fallimento come una procedura in positivo e vedremo che alla fine di questo percorso c'è l'esdebitazione. Non c'era per tutti gli altri, allora l'imprenditore sotto soglia si lamentava, si poteva giustamente dolere di non avere questa possibilità, questa risorsa, adesso ce l'ha, e quindi anche questi soggetti possono ottenere alla fine l'esdebitazione che altro non è che una sorta, diciamo, di pulizia di tutto ciò che non è stato pagato dal debitore. E quindi una procedura, secondo me, che ha una funzione di sanatoria e che sarà di grande utilità nel futuro se ne verranno colti i grandi aspetti di opportunità che si rappresenta e, ripeto, soprattutto da parte dei professionisti che hanno al redderazionem il boccino, uso un linguaggio comune, insomma, la Romagna e l'Emilia che è il gioco delle bocce, che hanno il boccino della procedura. Vedrete quando l'amico professor Nicola Soldati parlerà degli organismi, che sono poi gli organismi che detengono il know-how di questa procedura. al punto che il debitore, soprattutto il debitore civile, quello che non ha neanche un advisor con sé, può limitarsi a recarsi presso l'ordine prescelto, riferire il suo bisogno e a tutto il resto penserà il professionista di riferimento o i professionisti di riferimento. Procedura che è anche un'altra caratteristica, secondo il mio modesto punto di vista, che essendo stata pensata in origine come accordo di ristrutturazione, tanto è vero che in quanto tale prevedeva l'accordo con una sola parte dei creditori e quindi la necessità di pagare integralmente i creditori non aderenti, così come nell'ADR, inoltre non era necessario tutelare la par condicio, si potevano anche alterare le prelazioni, non era vincolante per i non aderenti, tutto questo ne faceva una procedura molto simile all'accordo di ristrutturazione di natura non concorsuale, non essendo tutelata la par condicio. mentre adesso è stata ripristinata la par condicio, bisogna pagare i privilegiati, è stato reintrodotto il principio di maggioranza per cui la maggioranza del 60% vincola anche la minoranza non aderente, quindi in totale somiglianza con l'accordo, scusate, con il concorato preventivo, adesso, dicevo, ritornando al pensiero originario, è una procedura che somiglia più che all'accordo di ristrutturazione, così come era stata originariamente concepita con la 3.2012, di più ad un concordato preventivo. In pratica è stato definito adesso il concordato dei consumatori e delle piccole imprese. Per questa somiglianza, che è una vera e propria analogia, mi pare, ripeto, molto modestamente di poter affermare, che essa, essendo stata scritta con una grande logica di dettaglio, può servire, e in certi casi concretamente serve, a dare luce, cioè ad interpretare in modo più chiaro certi istituti, certi passaggi della normativa, chiamiamola superiore, cioè del concordato maggiore, laddove appunto il legislatore, avendo avuto più tempo per pensarci su e avendo avuto anche il modo, diciamo, dell'osservazione della prassi, laddove il legislatore, diciamo, ha meglio rifinito un certo istituto nel concordato minore di quanto non avesse fatto nel concordato maggiore, cosicché possiamo facilmente, secondo me, interpretare istituti di dubbi e interpretazione del concordato maggiore alla luce di ciò che è stato fatto e detto a livello del concordato minore, vediamo se avanza tempo di parlarne. Dicevamo che questa è una procedura che riguarda un po' tutti adesso, in particolare essa si rivolge al non imprenditore appunto, cioè al soggetto che non svolge alcuna attività di impresa e, per esempio, anche al professionista che comunque ha stretto rigore interpretativo, è un soggetto che svolge attività di impresa perché è un'impresa di servizi, cioè è una prestazione del servizio intellettuale, ma che sappiamo da noi tradizionalmente per privilegio di categoria non è mai stato considerato imprenditore e quindi non è mai stato considerato soggetto fallibile. Adesso con questa procedura è possibile anche per il professionista adire ad un trattamento concorsuale della propria insolvenza e quindi ottenere in fine l'esdebitazione. Inoltre questa vale per gli imprenditori non commerciali, quindi per gli imprenditori agricoli, i quali già per effetto di un decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, potevano accedere agli accordi di distrutturazione e alla transazione fiscale e poiché questa norma prevede la possibilità di applicarsi a coloro che non sono soggetti a procedure concorsuali diverse e siccome gli accordi di ristrutturazione sono procedure ritenute prevalentemente almeno non concorsuali, il fatto che l'imprenditorio agricolo potesse stipulare un accordo di ristrutturazione, procedura intesa come non concorsuale, non veniva considerato impediente per l'accesso a questa procedura, diciamo che regola l'insolvenza di soggetti che non possono accedere a procedure concorsuali diverse. Ora questo era il dubbio interpretativo che si poneva con la legge 3 2012 fino alla modifica dell'ottobre 2012 che appunto all'articolo 7,2 bis appunto aggiunto in quanto bis si dice che l'imprenditore agricolo può stipulare con i creditori un accordo di composizione della crisi, quindi adesso espressamente l'imprenditore agricolo può accedervi e infine dicevamo appunto i non imprenditori, gli imprenditori non commerciali, i professionisti, gli imprenditori sotto soglia, cioè quelli che non raggiungono le soglie di fallibilità ex articolo 1 legge fallimentare, quindi imprenditori commerciali a tutti gli effetti ma non fallibili e infine anche le casalinghe. Non se ne parla molto ma riterrei che possono accedere a questa procedura anche i soci di società personali, quindi fallibili in proprio come soci, non titolari di impresa ovviamente e non si vede perché finché la loro società va bene e non è concretamente chiamata a rispondere di una propria eventuale insolvenza, essi non debbano, essi soci non debbano poter accedere a questa procedura come consumatori. Immaginate il socio di SNC la cui società funziona benissimo col patrimonio suo e lui ha dei problemi perché ha comprato, che so io, una cucina troppo grande o i mobili di casa non riesce a pagarli, allora quel socio come consumatore può sicuramente accedere alla procedura senza dover impegnare il patrimonio della società. Ma io direi anche di più, se andiamo a leggere l'articolo 6, voi spero abbiate il testo ma se non l'avete vi leggo io, l'articolo 6 dove si parla del requisito soggettivo si dice che per consumatore si intende il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta, cosicché si può dire che anche chi è imprenditore piccolo o non piccolo sotto questo profilo non importa, ma diciamo imprenditore individuale in questo caso o professionista è possibile che l'impresa funzioni benissimo, impresa che può essere quella appunto commerciale o attività professionale. In questi casi quantomeno si deve ritenere che il soggetto possa accedere alla procedura di sovraindebitamento quale consumatore, cioè soltanto per le obbligazioni assunte esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale e si deve ritenere, penso io almeno, che ciò possa avvenire con esclusione delle risorse imprenditoriali o professionali, cioè non dovrà impegnare i beni aziendali e i beni dello studio. Questo, ripeto, è il mio punto di vista e non è detto che sia quello corretto, ma il mio compito è quello ovviamente oltre che divulgativo anche propositivo e quindi io assolgo facendo la proposta, poi si vedrà se è vero. Ma altrimenti si dovrebbe affermare il contrario, che chi si è indebitato per la cucina deve mandare in malora lo studio e non sembra che sia, insomma, o l'impresa quando invece l'impresa funziona bene. Questo esclusivamente, cioè questa possibilità di accedere alla procedura in modo avulso, credo che possa anche essere letta in termini di separazione delle risorse, alcune destinabili e altre non destinabili, alla composizione della crisi. Anche perché, dopo la riforma, la procedura di sovraindebitamento, di composizione della crisi, del sovraindebitamento, non è più una sola, tant'è siamo qui appunto divisi anche io e il collega d'autor Forolfi, perché lui parlerà poi del piano. Mentre inizialmente si prevedeva solo un accordo e la dottrina aveva stigmatizzato questo accomunare l'imprenditore sotto soglia al non imprenditore sotto il profilo del trattamento di risolvenza, perché sono soggetti così diversi, esigenze diverse e quindi perché devono avere anche lo stesso trattamento sotto il profilo procedurale. Ed infatti il legislatore dell'ottobre 2012 ha inserito a fianco dell'accordo, accordo che va a proporsi ai creditori sulla base di un piano, ha inserito anche una procedura diciamo semplificata che non prevede l'accordo ma il semplice piano. Oltre ad una terza via, che è quella della liquidazione, alla quale si può giungere? O perché sono fallite le prime due, l'accordo diciamo dell'accordo con i creditori o il semplice piano, o perché sono fallite quindi l'articolo 14 quater, prevede la conversione della procedura di composizione in liquidazione che si somiglia molto al fallimento. tant'è vero che poi appunto i compensi sono determinati quando si tratta di liquidazione sulla base dei compensi dei curatori, mentre quando si tratta di composizione della crisi non liquidatoria sono determinati sulla base dell'attività diciamo analogicamente raffrontata del commissario giudiziale e liquidatore. Dicevo della liquidazione che può essere lo sbocco del cattivo funzionamento dell'accordo o del piano o può essere anche direttamente dicevo la terza via, la prima opzione è rappresentata dal debitore il quale chiede direttamente la liquidazione e che è disciplinata dagli articoli 14 terre seguenti, in particolar modo 14 quinquies che parla del decreto e arriveremo a parlare anche di questo. Dicevamo appunto di questa triplice possibilità che si può così sintetizzare, non entro ovviamente nel tema del piano che tratterà il collega dottor Farolfi, ma posso solo anticipare che mentre a tutti i soggetti che vi ho detto prima è consentito proporre ai creatori un accordo sulla base di un piano, solo al consumatore e aggiungo o preciso anche a colui che pur essendo imprenditore o professionista si voglia presentare come consumatore e solo come tale, a questi è consentito anche soltanto proporre un piano. La differenza qual è? Che l'accordo si vota, il piano no. L'accordo stipulato sulla base di un piano va al voto come l'accordo del concordato preventivo, come la proposta di concordato e quindi va alla maggioranza, la maggioranza del 60% vincola la minoranza dopo aver espresso il voto favorevole. Viceversa il piano è sottoposto soltanto all'omologa da parte del magistrato che si occupa della procedura e nulla più, quindi c'è questa differenza però ripeto il piano è solo per il consumatore. La liquidazione a sua volta è un procedimento un po' diverso ancora perché si sviluppa sulla base di un progetto di liquidazione che è redatto dall'organismo di composizione della crisi e che quindi non richiede, se ho ben capito l'omologa, anche se in maniera un po' ellittica ma credo erronea, l'articolo 14 quinquies al comma 2 lettera B si dice che il giudice dispone il blocco delle iniziative esecutive individuali fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. Ma se ho ben capito nel procedimento di liquidazione non c'è un provvedimento di omologazione, mi pare. Qui hanno fatto un po', diciamo, quel brutto che facciamo tutti, copia e incolla, hanno fatto male. È rimasta questa espressione che si ravvisa invece nell'ipotesi dell'accordo. Lì c'è un provvedimento di omologazione, così come anche nel piano c'è un provvedimento di omologazione. Nella procedura di liquidazione invece c'è solo un progetto di liquidazione e non è prevista una procedura di omologa e neanche un'udienza di omologa. Ai correlatori eventualmente la chiosa, mi pare che sia così. Il piano può avere il contenuto più vario, parlo del piano sulla base del quale si propone l'accordo, cioè chiamiamolo procedimento ordinario, può avere il contenuto più vario e quindi normalmente, come appunto nel concorso preventivo, si potrà proporre ai creditori qualunque cosa, anche, dice la legge, l'accessione di crediti futuri. Va detto, ad esempio, che nella procedura di liquidazione l'accessione del credito futuro è imposta dall'articolo 14 novies, laddove si dice che il liquidatore, che è il soggetto che gestisce la procedura di liquidazione, che sarà poi un professionista nominato dal tribunale, cede i crediti, quindi non è data alternativa, anche se con oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Che vuol dire questo? Che se esiste un credito che va a scadenza oltre i quattro anni, il ricorso, va ceduto, dice la norma. Va ceduto, perché quattro anni? Perché la procedura di liquidazione ha la durata, diciamo, ordinaria, standard, prevista nel progetto di liquidazione, che è quello che viene redatto dall'organismo di composizione della crisi. Questo progetto può durare un anno, 18 mesi, 24 mesi, poniamo 24 mesi, e poi si chiude. Ed è un progetto che si basa sul patrimonio esistente. Tuttavia è possibile, e lo prevede l'articolo 14 undeces, beni e crediti sopravvenuti, che sopravvengano dei beni, come normalmente avviene, e quindi tutto ciò che sopravviene, dice la norma, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, costituisce oggetto della stessa liquidazione. che vuol dire che la procedura è una sorta, diciamo, di fisarmonica, che è suscettibile di espansione, in quanto possono sopravvenire beni fino al quarto anno dal deposito di ricorso. E tanto è vero che nel caso appunto della liquidazione, l'articolo 14 nobies, stabilisce al comma 5, che accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione, programma di liquidazione elaborato dal liquidatore, che verosimilmente potrebbe essere nominato all'interno dell'organismo di composizione della crisi, o anche no, nell'ambito del programma di liquidazione, dicevo, il giudice, appunto, una volta che ha accertato la completa esecuzione di questo programma, e comunque non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, dispone alla chiusura della procedura. Quindi si dice che la liquidazione va chiusa una volta esaurito il programma di liquidazione, il quale deve prevedere la ragionevole durata della procedura, ma ragionevole che non può superare i quattro anni, ragionevole durata che non può superare i quattro anni, ebbene, il giudice la chiude, ma non prima dei quattro anni, perché? Perché c'è la norma, il 14 undeces, che stabilisce che fino al quarto anno tutto ciò che sopravviene va in liquidazione. Ecco perché questa procedura, tra l'altro, è un caso unico, forse il primo, per quanto io mi sia occupato di questa materia, in cui si stabilisce una durata minima della procedura. Di solito siamo abituati a ragionare in termini di durata massima, cioè di legge pinto, di responsabilità per ciò che dura troppo. Qui abbiamo da coordinare il 14 nove es primo comma, in cui il liquidatore stabilisce la ragionevole durata della procedura, che non può superare i quattro anni, ma che non può essere neanche inferiore ai quattro anni, perché l'ultimo comma dice che il giudice non la può chiudere prima di quattro anni, in quanto la norma successiva, un deces, ci dice che i beni sopravvenuti fino a quattro anni dal ricorso rientrano. Tanto è vero che tutto ciò, diciamo, tutto il discorso temporale si completa, perché la domanda di accesso a questa procedura non può essere ripresentata prima di cinque anni. Quindi in sostanza, esaurito al quarto anno, uno si fa un anno di libertà e poi può ripartire con la procedura. Una volta, nell'originale versione del decreto, era previsto tre anni, cioè si stabiliva un termine, diciamo, di purgatorio di tre anni. Chiaramente questo andava a confliggere con la norma che prevede una durata minima di quattro. E allora è stato spostato a cinque, il termine prima del quale non si può proporre nuovo ricorso. Per completare il discorso temporale, è soltanto come anticipo e accenno che l'esdebitazione si può ottenere ogni otto anni, invece. Lo dice l'articolo 14 terdeces, al comma primo lettera C, non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti alla domanda. Quindi in pratica, nell'arco di un decennio, si possono avere due procedure di composizione della crisi, ma una sola esdebitazione. All'interno del piano, dicevamo, massima libertà, ci possono stare anche delle garanzie. Le garanzie hanno un duplice significato, sono, diciamo, incentivanti, rassicurano della capacità di adempimento del piano e sono anche dimostrative della fiducia che può riscuotere l'imprenditore, comunque il proponente, nei confronti di altri soggetti. Se ci sono delle garanzie e se le risorse del proponente non sono sufficienti, il terzo garante deve sottoscrivere il piano. Quindi condizione formale, ma anche sostanziale, di ammissibilità. Il piano può prevedere anche che la liquidazione sia fatta, la liquidazione, diciamo, l'esecuzione, l'adempimento di esso sia affidata a un terzo fiduciario, che la legge chiama gestore per la liquidazione. E questo gestore che prima, nella prima versione, poteva essere proposto dal debitore, oggi invece, nella stesura definitiva, è stabilito che sia il Tribunale a nominare il gestore per la liquidazione. Il gestore è all'articolo 7, infine del comma 1. Il gestore è nominato dal giudice. Non abbiamo detto del presupposto oggettivo, cioè del sovraindebitamento, che la norma, in un particolarissimo esercizio, quasi un allenamento di complicazione mentale, il legislatore è andato definendo più e più volte. Partiamo dall'articolo 5 della legge fallimentare, che con grande tranquillità ci ha accompagnato dal 1942, con tutte le rifiniture del caso, ma insomma è una norma che ci consente tranquillamente di definire insolvente come colui che non paga regolarmente le proprie obbligazioni. Regolarmente sappiamo, credo tutti, che vuol dire al tempo debito e nella misura stabilita e nel modo stabilito. Quindi 100 euro al 30 di gennaio devono essere 100, devono essere euro e devono essere al 30 di gennaio. 100 euro al 31 gennaio non è adempimento regolare, così come 99 euro al 29 gennaio non è adempimento regolare, così come un anello di brillanti al 30 gennaio non è adempimento regolare. E sappiamo quindi che l'imprenditore che non è in grado di rispettare questo è soggetto al fallimento in quanto insolvente. Da questa definizione il legislatore ha ritenuto discostarsi, in parte acquisendo nozioni dall'elaborazione giurisprudenziale sul concetto di insolvenza per le imprese in liquidazione, e in parte diciamo sovrabbondando con superfettazioni lessicali assolutamente superflue e ridondanti. Vediamo la norma cosa dice. Anzi, vediamo prima cosa diceva. Perché la primissima versione del sovraindebitamento si intendeva una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Questa ultima parte ci tranquillizza, è la stessa dell'articolo 5 della legge fallimentare, la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Però era legata alla prima parte da un nonché, e il nonché tante volte viene usato come congiunzione. E allora sembrava che il proponente dovesse trovarsi in tutte queste situazioni contemporaneamente. Cioè il perdurante squilibrio tra le obbligazioni e il patrimonio liquidabile per farvi fronte e anche la definitiva incapacità di adempiere. Il nonché a ottobre 2012 è stato sostituito con un ovvero. ovvero somiglia di più ad una disgiuntiva che ad una congiunzione. E quindi abbiamo pensato di poter dire, bene, allora, o si trova nella definitiva incapacità di adempiere o nel perdurante squilibrio tra le obbligazioni e il patrimonio. Ma la differenza è poca, perché se vogliamo ben vedere, il secondo concetto, cioè quello di cui alla proposizione normativa dopo la disgiuntiva o vero, inteso come definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, il secondo concetto si può riferire, come si è sempre detto anche in giurisprudenza, all'impresa attiva, in quanto produce un reddito e la cui insolvenza non può essere fotografata, cioè va valutata con riferimento ad un trend. Ad esempio, se in questo momento non c'è liquidità, ma fra tre mesi entrano i soldi degli ordinativi, perché gli ordinativi vengono completati e poi consegnati, allora dicevamo, si dice ancora, che l'insolvenza non c'è perché l'illiquidità non è definitiva. Qui si aggiunge che l'incapacità di adempiere regolarmente deve essere definitiva e quindi sostanzialmente possiamo dire che è la stessa definizione, ma va riferita prevalentemente all'imprenditore attivo. Quando l'imprenditore invece è in liquidazione, abbiamo normalmente ritenuto che il problema dell'insolvenza andasse risolto in termini non più dinamici, come per l'impresa attiva appunto, ma in termini statici, cioè proprio di fotografia, attivo e passivo. E quindi anche se la liquidazione in qualche modo richiedesse un certo tempo, si poteva ritenere non insolvente il soggetto in liquidazione in quanto il patrimonio potesse far fronte all'attivo. Quindi non ci fosse quello squilibrio perdurante appunto tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Quindi si potrebbe anche dire che per questa definizione la seconda parte si attaglia di più all'imprenditore attivo, la prima si attaglia di più all'imprenditore in liquidazione. Entrambe, ma a questo punto sono un doppione, cioè sono sinonimiche, vanno bene per il debitore civile. Al professionista vedrei meglio la definizione, a tagliarsi la definizione della insolvenza, diciamo, dinamica, perché il professionista non va in liquidazione. E poteva anche andare bene così, a ottobre. Sì, a ottobre. Poi, quando hanno fatto le modifiche, cioè a dicembre, hanno aggiunto ancora, e qui non capisco perché si siano così scatenati su questa definizione che non richiedeva tutta questa attenzione, e hanno aggiunto alla prima parte il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per far di fronte, che determina le rilevanti difficoltà di adempio delle proprie obbligazioni. Cioè sono andati a recuperare una parte della definizione collocata dopo la disgiunzione, ovvero, l'hanno modificata in termini lessicali, ma in pratica, a mio avviso, tutte e tre queste proposizioni ci dicono la stessa cosa. Cioè si parla di perdurante squilibrio o di definitive incapacità, quindi deve essere un concetto non reversibile, deve significare che non si è in grado di avere pronta liquidità, e per chi è in liquidazione pronta liquidità vuol dire chiaramente per i beni mobili pronta liquidità si va a misurare nell'arco di qualche mese, per gli immobili ovviamente non si può pretendere di liquidarli nell'arco di qualche mese, si può parlare di pronta liquidabilità per gli immobili con riferimento ad un arco temporale più lungo, diciamo 12-18 mesi. Ma al di là di questi concetti di dettaglio, mi sembra che tutte queste definizioni portino poi all'unica, che è quella solita dell'articolo 5 della legge fallimentare. E comunque questo è il presupposto oggettivo per adire questa procedura. Il concetto di fondo, il passaggio più importante di tutte queste tre possibilità è il cosiddetto divieto di azioni esecutive. Parlo in italiano, perché individuali? Perché poi nel piano non si può parlare di automatic stay, ma avrei dovuto dire l'automatic stay, che è quello che poi nel concordato preventivo si può ottenere con la presentazione della domanda di concordato in bianco, di pre-concordato o concordato con riserva. Qui l'effetto è legato alla presentazione del piano e della proposta di accordo da parte del debitore ed è un effetto automatico. Poi il collega vi spiegherà che cosa succede nel piano, ma non succede la stessa cosa. Con il decreto di cui è il comma 1, cioè è il decreto che il giudice emette per fissare l'udienza dopo che gli è stata fatta la domanda di accesso alla procedura, il giudice fissa l'udienza, con quel decreto il giudice stabilisce intanto la pubblicità della proposta del decreto che sarà poi nel registro delle imprese se è un imprenditore, anche in altri modi se è un imprenditore, esclusivamente in altri modi se non è un imprenditore. Questi altri modi non è scritto quali sono, possono essere i quotidiani, possono essere i siti internet, quantomeno mi sento di far rilevare la possibilità che sorgono dei problemi con riferimento all'arco temporale della protezione che io ho chiamato dell'automatic stay, adesso vediamo perché, in quanto dicevo con questo decreto il giudice dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non è possibile iniziare a proseguire azioni esecutive individuali, si dice sotto pena di nullità, ma in realtà la nullità si può configurare per azioni da intraprendere, per quelle già intraprese si parlerà o di sospensione, o di improcedibilità, o di inefficacia. Ebbene, questo effetto del divieto di aggressioni esecutive individuali, essenzialmente garanzie, decreti ingiuntivi, sequestri, forse il decreto ingiuntivo si può fare, ma non si può utilizzare, provvedimenti cautelari in genere, cioè tutto quello che implica un vantaggio per il creditore che agisce rispetto agli altri, mentre il sequestro giudiziario si deve ritenere per esempio possibile, ebbene, il divieto di azioni esecutive inizia, si ritiene con la pubblicità del decreto, quindi dal momento in cui il decreto è pubblicizzato, ora, se la pubblicità è come lo è per l'imprenditore l'iscrizione nel registro delle imprese, è un dato univoco, ufficiale, va bene, oggettivo, ma se la pubblicità è altro, per esempio la pubblicità su un quotidiano o su più quotidiani o su internet, vedete che è possibile che si verifichino momenti diversi sfalsati di inizio dell'efficacia di questo automatic stay e quindi questo potrebbe dar luogo a delle incertezze. quanto meno possiamo dire che per gli imprenditori il momento iniziale a partire dal quale scatta il divieto è sicuramente l'iscrizione nel registro delle imprese, ma per chi non è imprenditore i suoi creditori non sono tenuti a visionare il registro delle imprese, quindi non si può creare quella presunzione di conoscenza che il codice civile dell'articolo 2193,2 impone con riferimento ai fatti soggetti a iscrizione per il quale appunto articolo 2193,2 per il quale l'iscrizione crea una presunzione di conoscenza dal momento in cui il fatto è portato appunto nel registro delle imprese. Ora, se io sono creditore di una casalinga mai più vado a vedermi il registro delle imprese, ecco, viceversa se è un imprenditore sotto soglia posso pensare di andare a vedere il registro delle imprese, quindi varrà il registro delle imprese per gli imprenditori per gli altri sinceramente bisognerà vedere di volta in volta qual è il primo degli eventi pubblicitari raffigurati dal giudice per stabilire qual è il diessa quo. Sicuramente il diessa quem della protezione è il momento in cui è definitivo il provvedimento di omologazione. Dicevo, ma ve ne parlerà meglio il prossimo relatore che questo non è esattamente così nel piano cioè non c'è un automatic stay c'è altro ma insomma non voglio anticipare mentre nella liquidazione che è prevista dall'articolo 14 terre seguenti in particolare 14 quinquies c'è un decreto di apertura della liquidazione e con questo decreto il giudice allora liquidazione diciamo inizia con una richiesta del debitore che chiede in alternativa alla proposta per la composizione della crisi chiede di liquidare tutti i suoi beni sostanzialmente la bonorum vendizio del diritto classico romano. Alla domanda si allega una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contendere una serie di cose e quindi c'è solo una domanda in realtà domanda di liquidazione non è prevista un'udienza almeno mi pare di omologa non c'è il voto ovviamente in definitiva il giudice accerta soltanto l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dopodiché dichiara aperta la procedura mi pare con il che con questo stesso decreto dispone che fino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo e non c'è questo provvedimento di omologazione forse si intende diventa definitivo il decreto di apertura cioè non è reclamato c'è un refuso in questi termini ma insomma a questo punto dispone che è vietato iniziare a proseguire azioni cautelarie esecutive nonché essere acquistati diritti di prelazione quindi stabilisce questa inibitoria diciamo d'ufficio analogamente a ciò che avviene con il decreto con cui si dà pubblicità alla proposta di accordo ebbene avvicinandosi a grandi passi la fine dell'ora che mi è stata assegnata va bene 4.4 voglio portare la vostra attenzione su alcuni punti che caratterizzano questa legge e che sono anche diciamo esempio anche un po' insomma di quello che di quello che è anche il mutato sentire desidatore con riferimento a queste vicende allora vediamo ad esempio il trattamento dei crediti erariali ora per quanto riguarda l'erario l'articolo 7 stabilisce che in ogni caso qui si fa riferimento al momento in cui viene presentato il piano con riguardo i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento bisogna anche aggiungere che all'articolo 11 comma 5 è previsto che l'accordo cioè l'accordo fatto con i creditori cessa di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente entro 90 giorni delle scadenze previste i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie bisogna anche leggere insieme l'articolo 8 comma 4 che nel caso di accordo con continuità cioè con l'impresa che continua a operare il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino a un anno dell'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio pegno e ipoteca allora siccome lo Stato è quasi sempre privilegiato e leggendo insieme queste tre norme ripeto il 7 comma 1 8 comma 4 e l'altra che vi ho letto prima l'11 comma 5 possiamo dire che se si tratta di debiti verso la pubblica amministrazione enti previdenziali e assistenziali l'unica possibilità è il pagamento entro 90 giorni del 100% ove privilegiati ovviamente ma quasi sempre quindi qui non è possibile nessuna scontistica per i debiti verso l'Inps l'Inail e la pubblica amministrazione soltanto il pagamento al massimo fino a 90 giorni poi se si tratta di privilegi in genere qui senza riferimento a nessun particolare creditore come l'erario anziché no per i privilegi si deve intendere privilegio speciale pegno ipoteca è possibile la moratoria fino a un anno quindi possono essere pagati fino a un anno dopo però deve trattarsi di privilegi incidenti su beni che costituiscono beni funzionali dell'impresa perché perché si tratta appunto di accordo con continuazione dell'attività di impresa allora la norma riguarda l'imprenditore sotto soglio ovviamente riguarda il caso in cui l'imprenditore sotto soglia proponga un accordo in continuità e gli serve poter utilizzare questi beni per la continuità dell'impresa altrimenti ovviamente dovrebbe prevederne la liquidazione in questo caso dice quando è prevista la continuità per i beni che tu devi usare per l'azienda e sui quali insiste più il legio puoi proporre a quei creditori il pagamento fino a un anno e infine con riferimento invece a quei particolari crediti che sono quelli stabiliti dalla comunità europea cioè le risorse proprie dell'Unione Europea l'imposta sul valore aggiunto che per quanto mi consta alimenta il fondo salva stati cioè il gettito IVA che va poi a tornare nelle casse di Cipro Italia Irlanda Spagna Portogallo eccetera per quanto riguarda il fronteggiare la crisi per questi e anche le ritenute operate riscosse non versate il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento quindi qui non si può applicare la riduzione cioè la falcidia questo problema era sorto un problema diciamo di lettura della norma era sorto con riferimento all'articolo 182 ter il quale introdotto per il motivo di prevedere la transazione fiscale contiene tuttora nel suo interno l'espressione praticamente identica per cui i tributi comunitari l'IVA e le ritenute dovevano essere pagati per intero e si erano creati due orientamenti tipici del nostro modo di affrontare le problematiche per cui i processualisti dicevano la previsione del pagamento integrale dell'IVA per semplicità mi riferisco solo all'IVA è contenuta in una norma processuale quindi riguarda solo il caso in cui l'imprenditore proponga la transazione fiscale se non c'è transazione fiscale è libero di fare quello che vuole si dice tanto più quando la finanza proviene da terzi finanza esterna qui aiuta la cassazione se invece si legge la norma in termini sostanzialisti si dice no la norma non è limitata al caso della transazione fiscale ma riguarda tutti i casi in cui c'è un concordato infatti effettivamente nella norma si parla di piano cioè si fa riferimento al piano concordatario quindi dicevano i sostanzialisti tutte le volte che c'è il concordato l'IVA si paga per intero ripeto parlo solo dell'IVA per semplificare ma ovviamente faccio riferimento anche alle ritenute e anche ai tributi comunque comunitari in genere e a questa tesi aveva ritenuto di accedere la cassazione con due pronunciamenti del novembre 2011 e giugno 2012 e aveva detto la norma riguarda tutti i concordati ma ancora si poteva forse opinare perché la cassazione voi sapete non è un binding president non impone di essere osservata si poteva forse anche motivare e dissentire ma adesso che c'è questa norma come vi dicevo in certe articolazioni questa normativa sul concordato minore è più dettagliata più chiara della normativa sul concordato maggiore per cui può servire per capire ora il dubbio sulla transazione sul 182 terre sul fatto che l'iva andasse pagata per intero soltanto nel caso di transazione fiscale a mio avviso va risolto oltre che sulla base delle argomentazioni della cassazione anche sulla base del fatto che qui è previsto lo stesso impianto normativo in un contesto in cui di transazione fiscale non si parla cioè l'iva per l'imprenditore o debitore civile che accede a questa procedura va pagata per intero perché perché dice la norma il piano può prevedere esclusivamente la dilazione il piano vuol dire che deve essere una previsione del piano quindi a prescindere che ci sia o meno transazione fiscale che è un qualcosa che è fuori del piano e anche a prescindere aggiungiamo dal fatto che la finanza sia propria o di terzi perché appunto deve essere una previsione del piano e così possiamo secondo me adesso con più tranquillità affermare questo anche perché immaginate quali problemi di disparità di trattamento potrebbero sorgere laddove l'imprenditore lo stesso imprenditore la stessa persona fisica imprenditore un anno va da sopra soglia e se fa il concordato è libero di falcidiare l'iva l'anno dopo va sotto soglia e se fa il concordato non è più libero di falcidiare l'iva perché per lui sotto soglia c'è solo questa normativa vedete come sia impossibile districarsi ma fin qua siamo arrivati aggiungo a livello di semplice provocazione quest'ulteriore argomento che ancora non ha trovato riscontro quantomeno nella giurisprudenza fin qua si è detto con grande bonarietà e elasticità che se la finanza arriva da fuori se è una finanza esterna si può fare quello che si vuole perché dice la Cassazione l'ha detto la Cassazione essendo la finanza esterna cioè finché resta fuori del patrimonio addirittura si parla di somme messe a disposizione direttamente del commissario o assegni circolari o depositi bancari però a disposizione del commissario direttamente sono soldi esterni non entrano nel patrimonio del debitore e quindi il terzo fa quello che vuole in pratica cosa fa? può pagare un chirografo e non pagare o pagare di meno un privilegiato sulla base di questo ragionamento che un privilegiato generale immobiliare nell'ipotesi in cui si desse l'avvio ad una procedura concorsuale con le sole risorse dell'imprenditore proponente potrebbe non avere capienza cioè con i soldi dell'imprenditore l'agenzia delle entrate potrebbe ritrovarsi a zero in quanto diciannovesimo grado nel fallimento perché nel concordato bisogna che ci sia il pagamento integrale ma in un fallimento ipoteticamente l'agenzia delle entrate può anche andare a zero se invece ci sono i soldi del terzo dice la giurisprudenza di Cassazione quel terzo può anche proporre che so l'8% alle banche e il 4% all'agenzia delle entrate quindi paga di più il chirografo e meno il privilegio e fin quel ragionamento per che età potrebbe anche tenere ma non regge più secondo me quando e bisogna ovviamente leggere le norme anche in chiave etica cioè con un supporto morale che non possono non avere quando in questo modo sostanzialmente si va a disgregare la graduazione di privilegi che è imposta da legge non è una variante opinabile del piano allora ci si chiede mi chiedo vi propongo di riflettere su se sia possibile per il fatto stesso che i soldi che le risorse del concordato arrivino da un estraneo se sia possibile alterare la graduazione dei privilegi fino al punto di pagare prima il chirografo e poi il privilegio mi si oppone anche fondatamente ma semplicemente sul piano pragmatico che se non è così nel fallimento il risultato sarebbe peggiore cioè niente per tutti però io ancora diciamo obietto innanzitutto che i denari quando vengono utilizzati da un imprenditore anche se arrivano da un terzo in qualche modo sia pure sotto il profilo contabile diventano patrimonio di chi estingue il debito a meno che non sia un pagamento del terzo perché il pagamento del terzo è chiaramente il pagamento del terzo ma se io vado a regolare la crisi in maniera globale e concorsuale in questo modo se accetto il principio per cui il pagamento del terzo è libero cioè svincolato dalle regole del concorso debbo anche ammettere che sia stravolto l'ordine dei privilegi in maniera in fondo non giustificata perché non c'è una giustificazione tecnica a questo se non quella di dire che appunto che il terzo fa quello che vuole con i soldi propri e immaginatevi ancora una volta il caso di uno stesso creditore con due con debitori solidali uno di quali usa i risorse proprie e l'altro invece risorse esterne quello stesso creditore poniamo che sia un privilegiato generale immobiliare troverà capienza dove le risorse arrivano dal terzo non trova capienza dove le risorse arrivano dall'imprenditore io diciamo a questo non trovo una giustificazione sostanziale mi sembra più un'interpretazione quella della Cassazione direi di realpolitik cioè di dire favoriamo comunque l'emersione di queste finanze esterne e con esse quindi agevoliamo le soluzioni concordatari concludo dicendo che proprio questa è la logica di questa procedura che è quella di agevolare la soluzione della crisi e di agevolarla in modo da favorire la composizione amichevole extragiudiziale della crisi laddove appunto in questa procedura il giudice è chiamato soltanto e questo è stato un risultato di compromesso perché si voleva inizialmente una procedura non giudice cioè senza giudice che però avrebbe potuto portare qualche conseguenza negativa a livello di rassicurazione per il certo creditorio del fatto che appunto la presenza del giudice dà in termini di garanzia della legalità e allora il giudice è stato diciamo comunque reinserito nella procedura però in due momenti esterni ad essa cioè la prima parte la parte cautelare dove concede l'automatic stay il blocco delle azioni esecutive e l'ultima parte quella in cui a seguito dell'udienza procede all'omologazione sulla base di riscontri tendenzialmente formali poi il tutto cioè il nocciolo della procedura è affidato in outsourcing agli organismi di composizione della crisi e quindi sostanzialmente si può ancora parlare di procedura di composizione della crisi amichevole ecco non giudiziale o paragiudiziale e su questo lascio e ringrazio la parola ai successivi grazie a voi bene intanto un ringraziamento ai presenti è sempre un piacere per me tornare a Modena ecco ogni tanto colgo l'occasione quando invitato per partecipare nella ripartizione degli argomenti che in qualche modo ci siamo ci siamo dati a me tocca parlare del piano del consumatore diciamo si tratta della novità della novità principale accanto alle novità procedimentali e alla liquidazione dei beni della novità principale introdotta recentemente dal legislatore indubbiamente siamo di fronte in questi ultimi tempi a un capovolgimento di quello che era forse il favor tradizionale del legislatore per il creditore ma assistiamo a una serie di interventi normativi che vanno esattamente e probabilmente sotto la spinta della situazione economica contingente il dottor Limitone vi ha già ricordato quale è stata l'incidenza un tempo impensabile ad esempio dell'indebitamento familiare e personale sia a livello di mutui immobiliari a fronte di un mercato che ha visto in questi ultimi tempi drasticamente ridotti i valori e quindi mutui magari accesi sulla base di valori iniziali congrui che si ritrovano invece pendenti su immobili drasticamente ridotti quanto al loro valore effettivo di mercato credito al consumo che ha spinto molto spesso delle famiglie ad acquisire la disponibilità di servizi di beni attraverso pagamenti rateali incontrollati tant'è che è sorto un vero mercato di secondo grado i cosiddetti finanziamenti spalma crediti del consumatore precedenti perché consentono di ricondurre ad un'unica rata maggiorata spalmata magari in un arco temporale maggiore i debiti preesistenti in sostanza una situazione di urgenza che ha spinto il legislatore a intervenire nuovamente anche nella materia dell'imprenditore non fallibile e in particolare per quanto devo io parlare oggi del consumatore sicuramente una prospettiva mi veniva da riflettere completamente diversa rispetto a un'epoca lontana nella quale ad esempio nella piccola Dorrit di Dickens noi abbiamo la storia narrata di una bambina che nasce in un carcere privato ai soborghi di Londra nelle quali venivano ristretti i debitori civili finché non avessero pagato i loro debiti una situazione che in Italia ad esempio era stata stigmatizzata dal discorso filosofico sulla carcere dei debitori della Midei e che aveva determinato la riforma leopoldina a metà del 1700 chiaramente oggi la prospettiva è non tanto di diciamo consentire una una soluzione ma appunto è quella di consentire una soluzione per modo di dire costi quel che costi all'insolvenza civile perché i motivi li abbiamo indicati la prospettiva anzi derivante dalla conversione in legge del decreto sviluppo è stata appunto quella di estendere anche al consumatore una serie di disposizioni che nella prima versione del decreto legge non convertito nell'ambito della legge 3 2012 erano apparsi insufficienti in effetti la prima idea del legislatore era stata quella di prevedere un quorum minore per il consumatore e si era ritenuto che questo fosse sufficiente ad incentivare l'accesso del consumatore a questa a questa forma di risoluzione della propria del proprio sovraindebitamento forse forse devo dire il legislatore è stato giustamente preveggente in effetti è sotto gli occhi di tutti come in quest'anno di vita anche la procedura di sovraindebitamento dell'imprenditore non fallibile non abbia avuto sostanzialmente applicazioni pratiche questo va detto anche perché l'incontro vuole avere appunto un risultato e un effetto pratico quindi la disciplina della legge 3 2012 pensata dal legislatore non ha avuto effetto pratico ecco quindi una serie di modifiche che appunto determinano forse oggi una commissione di modelli abbiamo visto che per l'imprenditore non fallibile è necessario raggiungere un accordo con il 60% però paradossalmente come nel concordato questo accordo vincola poi tutti i creditori anteriori per il piano del consumatore si va oltre ma lo vediamo subito alcune cose sono state anticipate dal collega ma credo sia comunque utile ritornarvi il piano del consumatore il piano del consumatore è volto quindi alla ristrutturazione del debito e alla soluzione della propria situazione appunto di insolvenza di sovraindebitamento consumatore rispetto alla nozione di consumatore noi siamo abituati a una nozione civilistica quindi colui che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale in questo caso il legislatore ha richiesto un qualcosa in più a me pare e cioè intanto il riferimento alla persona fisica ma questo non è una sorpresa vi ricordo che già la corte costituzionale aveva ritenuto non fondata una questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla nozione di consumatore del codice del consumo ritenendo che e questo devo dire è intervenuta anche la corte di giustizia europea fosse nella discrezionalità del legislatore fosse quindi corretto distinguere la situazione della persona fisica rispetto alla situazione dell'ente collettivo della società ad esempio i problemi si erano posti con riferimento alle associazioni senza scopo di lucro si era pensato di poter estendere quindi una disciplina protettiva anche ad enti collettivi che non fossero imprenditori era poi stato posto addirittura il problema per diciamo l'imprenditore marginale o per chi diciamo è al tempo stesso piccolo imprenditore o professionista e consumatore qui io credo che si sia fatta una selezione penso oggettiva quindi abbiamo una definizione soggettiva di colui che può accedere a questa forma di ristrutturazione del proprio debito e anche alla fine di esdebitazione ma al tempo stesso una selezione oggettiva questo perché intanto fermo il tema dell'imprenditore anche individuale fallibile che sicuramente non può accedere a queste a queste forme a questi strumenti diciamo il tema potrebbe porsi per piccolo imprenditore piccolo imprenditore non fallibile con riferimento ai limiti dimensionali di cui all'articolo 1 della legge fallimentare può accedere all'accordo predisciplinato dalla legge numero 3 ma non al piano del consumatore persona fisica che assume obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale allora il tema è la provocazione che riguarda categorie importanti perché ci sono stati indicati il professionista l'imprenditore individuale che però compie acquisti per la propria sfera esclusivamente personale il soggetto che in qualche modo può essere toccato in via indiretta dal fallimento pensiamo ad esempio ai soci appunto illimitatamente responsabili ai quali un fallimento è estensibile in base all'articolo 147 ma che non sono direttamente fallibili pensiamo ancora il caso è stato proposto e mi sembra che vi si possa dare una risposta favorevole dal professor fabiani relativamente ad esempio all'impresa o all'imprenditore che si sia cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno anche questa figura non è fallibile lasciamo stare le problematiche anche recentemente affrontate dalle sezioni unite sul problema della prosecuzione del giudizio nei confronti ad esempio dei soci della società di persone cancellata ma pensiamo all'imprenditore cancellato che da un lato non è fallibile ma dall'altro potrebbe continuare ad essere illimitatamente responsabile e non gli si potrebbe applicare altro procedimento di esdebitazione sicuramente non il concordato sicuramente non il procedimento degli articoli 142 e 143 perché presuppongono che cosa la chiusura di un precedente fallimento ecco quindi che a questi fini questo procedimento potrebbe acquisire sostanzialmente una sorta di con termini anglosassoni fresh restart questo soggetto chiude in qualche modo a livello tombale la propria situazione precedente collegata a una attività imprenditoriale cancellata oltre l'anno e può con più tranquillità reinserirsi nel circuito economico ovviamente io non mi occupo né parlo delle possibili applicazioni patologiche di questi istituti stiamo cercando di affrontare insieme queste novità normative per cercare di verificarne le possibili applicazioni fisiologiche o addirittura meritorie che permettano un'effettiva un'effettiva diciamo interpretazione conforme a quello che è lo spirito che il legislatore ha voluto ha voluto cogliere quindi dal punto di vista soggettivo è chiaro che questi istituti possono avere spazi interessanti ma il piano del consumatore io credo e quindi la disciplina di cui principalmente mi occupo è limitata a quelle persone fisiche che assumono o comunque ricomprendono nel piano esclusivamente diciamo le obbligazioni che ineriscono alla propria sfera personale questo è chiaro potrebbe determinare delle problematiche bisogna esserne consapevoli potrebbero determinare delle problematiche perché a fronte di una identità soggettiva dal punto di vista del concetto tradizionale civilistico di soggetto del diritto noi finiamo per avere o per consentire a livello procedimentale una distinzione di masse patrimoniali destinate è chiaro che tutto questo può tenere nella misura in cui come andremo a vedere per il piano non vi siano delle opposizioni perché io credo che poi fra i soggetti interessati vi potrebbero essere ad esempio anche i creditori fra virgolette commerciali di quello stesso soggetto che si oppongono all'omologazione del piano perché questo finisce in realtà per porsi in frode ai creditori ed è per questo che nell'ambito del potere di valutazione del piano del consumatore noi troviamo un allargamento particolarmente rilevante e forse come diceva il collega anche su alcuni aspetti non su tutti denso di possibili anche sollecitazioni su altri istituti per quanto riguarda appunto il giudizio di omologazione che il giudice è chiamato ad emettere rispetto alla figura del consumatore quindi i possibili utilizzi di questo nuovo strumento sono sicuramente aumentati resi più interessanti sia dal fatto che per il non consumatore il 60% serve unicamente a dimostrare la serietà del piano rispetto ai destinatari ma a quel punto la maggioranza vincola la minoranza che è una diciamo delle regole principali della concorsualità quindi è un po' uno simoro pretendere o richiedere che possa percorrere questo istituto chi non è soggetto a procedure concorsuali in effetti si dice diverse da quelle disciplinate in questo capo o sezione e quindi in qualche modo il dubbio lo stesso legislatore l'ha introdotto in secondo luogo questo potrebbe anche avere un rilievo perché pensiamo per diciamo l'imprenditore che si ritiene non fallibile inizia questo percorso poi in realtà o a fronte di opposizioni o in sede di omologazione contestata o attraverso una rivalutazione una risoluzione e una successiva chiarificazione della situazione reale questo soggetto fallisce se questa è procedura concorsuale tutto questo potrebbe forse avere un rilievo sia ad esempio sulla scorta della sollecitazione che ci deriva oggi dall'introduzione del 69 bis in termini di consecuzione fra diverse procedure ai fini del decorso del periodo sospetto sia sotto altro profilo per i professionisti che hanno seguito magari la predisposizione di questo piano in modo più interessante anche alla luce del 111 perché è venuto meno il 182 quater che limitava secondo alcuni secondo altri specificava la prededuzione esclusivamente all'attestatore oggi si parla di prededuzione collegata a quei crediti sorti in funzione o in occasione di una procedura concorsuale ma se qui siamo di fronte a una procedura concorsuale è chiaro che nell'ipotesi patologica in cui si sia cercato una scorciatoia rispetto al fallimento che poi successivamente viene dichiarato ci si può porre almeno il quesito della sorte dei crediti appunto che sono nati in relazione a questo tipo di procedimento vi è stato detto invece passando ai presupposti oggettivi come qui si parli di una situazione di sovraindebitamento ecco io non non perdo molto tempo se non per sottolineare che qui diciamo vi è una evidente commistione appunto fra diciamo la rilevazione di un dato riconducibile all'insolvenza in senso dinamico e quindi che attiene all'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con una situazione di dissesto statico tipica appunto come è stato detto delle società ad esempio in liquidazione in cui anche il giudice e il tribunale è chiamato in sede fallimentare a fare una verifica fra attivo e passivo il prontamente liquidabile e il perdurante squilibrio sono aggettivazioni che il legislatore ha inserito da un lato per evitare che qualsiasi difficoltà possa costituire il destro per accedere a questa forma di istituto è inutile che vi dica che una utilizzazione patologica così come potrebbe avvenire nel campo del concordato in bianco una utilizzazione patologica potrebbe portare a ritenere la presentazione di un ricorso per arrivare ad una conformazione giudiziale di un rapporto contrattuale sconveniente di cui si è pentiti quindi il problema di che cosa accade resta qui si vuole che la situazione di squilibrio sia perdurante che cosa significhi perdurante ce lo diranno le prime applicazioni pratiche qui non possiamo far riferimento a dei dati di bilancio perché stiamo parlando normalmente o di consumatore l'imprenditore potrebbe essere in contabilità semplificata in questo caso vi sono comunque degli elementi contabili da utilizzare sicuramente il prontamente liquidabile è un segnale è un segnale invece in senso opposto forse più importante e cioè che il legislatore non ha voluto impedire l'accesso a questo istituto solo perché ad esempio si possiede un immobile che ha un valore rilevante ma che magari è difficilmente liquidabile quindi in un mercato come quello attuale io adesso conosco maggiormente in questo momento la situazione Ravennate o Romagnola ma credo che qui le cose non vadano poi tanto meglio fra terremoto con blocco dei termini per le vendite che avete diciamo avuto per diversi mesi anche qui ad esempio tutto allora in quel caso sarebbe stato non prontamente liquidabile quindi dobbiamo soprattutto comprendere che il legislatore qui ha voluto diciamo non escludere la possibilità di accedere a questo istituto alla persona che ad esempio proprietaria della propria abitazione magari ecco potremmo pensare gravata dal mutuo già questo probabilmente è elemento che lo rende non prontamente liquidabile e quindi le possibilità di accesso a questo istituto anche dal punto di vista oggettivo sono rilevanti quindi no alla difficoltà transitoria ma diciamo di fronte a mettiamo una situazione nella quale gli inadempimenti nel pagamento delle rate del mutuo abbiano già determinato da parte della banca un preavviso di revoca di risoluzione eccetera sicuramente siamo davanti ad una situazione che non può più essere definita transitoria gli aspetti soggettivi e oggettivi per il consumatore non si parla di proposta perché strano a dirsi e veramente in modo innovativo non vi è bisogno di un accordo con i creditori ora io credo dal punto di vista pratico operativo che il legislatore ha introdotto questo nuovo istituto ma in concreto perché questo tipo di piano possa avere una qualche possibilità di accoglimento eccetera debba necessariamente passare da una fase di interlocuzione fra il soggetto o forse ancora meglio fra l'organismo o il professionista e i maggiori creditori non è pensabile che il piano giunga a ciel sereno per così dire e che a quel punto i creditori non reagiscono con una strenua opposizione io immagino la situazione del debitore che senza diciamo pensiamo a una ipotesi che potrebbe essere ricorrente senza attraverso il proprio professionista spiegare la situazione preventivamente alla banca con cui è maggiormente indebitato faccia calare questo questo tipo di piano è chiaro che o si apre a quel punto subito una fase dialettica che porta a far comprendere esattamente che non vi sono alternative più convenienti oppure ci sarà una sicura opposizione da parte dei creditori fra l'altro ecco il fatto che non ci sia un accordo appunto non significa che non ci siano delle possibili opposizioni quindi questo va nettamente distinto così come nel concordato preventivo il fatto che oggi i voti valgano anche se non dati quindi il silenzio assenso non significa che i creditori invece non si sveglino e votino negativamente questa settimana ad esempio due concordati con il silenzio assenso tutti tranquilli voti contrari massicci delle banche che ne hanno impedito l'approvazione quindi anche qui dove non è previsto un momento di confronto contrattuale non significa che non vi sia un'opposizione quindi se vogliamo quello che possiamo diciamo dire di differenza teorica fra i due istituti è che diciamo la proposta di soluzione del sovraindebitamento diciamo generale che potrebbe peraltro percorrere anche il consumatore perché il consumatore ha solo una possibilità in più non una via esclusiva vede una contaminazione fra natura di accordo di ristrutturazione e procedura concursuale il piano del consumatore invece ha una evidente connotazione procedimentale qui il piano negoziale è proprio assente non c'è neppure l'affizio del silenzio assenso però come vi dicevo vi è la possibilità che i creditori propongano delle opposizioni e quindi è delicata la fase dell'udienza nell'ambito del piano del consumatore e può avere un'importanza centrale in effetti nel piano del consumatore noi abbiamo un deposito poi vedremo diciamo quale contenuto deve avere e da quali documenti deve essere corredato però abbiamo il deposito la competenza è individuata in base alla residenza vi segnalo che con elemento distonico rispetto alle disposizioni sulle clausole vessatorie in tema di consumatore che pure introducono un foro esclusivo la vale anche il domicilio elettivo quindi ad esempio un domicilio eletto in contratto sempre che chiaramente non si tratti a sua volta di una clausola non effettivamente contrattata e convenuta ma si tratti a sua volta di una clausola di stile o predisposto unilateralmente dall'imprenditore qui invece è la residenza ad ancorare la competenza territoriale si disegna poi un procedimento chiaramente ispirato a forme camerali ma non possiamo dire di essere davanti a un procedimento di volontaria giurisdizione in senso stretto e questo potrebbe anche essere molto importante nel momento in cui ci chiediamo quale ruolo può avere l'avvocato in questo procedimento questo perché da un lato sono richiamati gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile poi si prevede che il decreto normalmente questi procedimenti vengono tabellarmente assegnati al giudice delegato però non è detto che siano per forza le tabelle del tribunale potrebbero anche ripartire su una sezione civile questo tipo di procedimento quello che è certo è che il reclamo va proposto allo stesso tribunale che giudicherà in composizione collegiale in modo diciamo superfluo è stato aggiunto del quale non può far parte il giudice che ha emanato il precedente decreto probabilmente se vogliamo capire un'utilità di questa specificazione si è voluto sottolineare che cosa che la prima fase non è una fase cautelare rispetto a un merito nella quale si potrebbe ritenere che il giudice possa continuare a far parte dell'organo decidente successivo qui siamo di fronte a un provvedimento il decreto di omologazione che può essere anche definitivo che se impugnato deve essere deciso da altri in base alla solita regola per cui non può partecipare all'impugnazione verso un proprio provvedimento il giudice che lo ha emesso però vi dicevo perché mi piace soprattutto rispetto alla proposta sull'accordo rispetto alla proposta di accordo sul piano sottolineare gli aspetti procedimentali perché hanno un'importanza effettivamente maggiore una volta presentato il piano è il giudice che dispone qualora vi siano dei procedimenti esecutivi in corso che possono minare l'attuazione del piano stesso è il giudice quindi che dispone quindi lo stay fra virgolette non è automatico ma è per provvedimento del giudice quindi non vi è un effetto automatico derivante dalla presentazione del piano ma vi è un provvedimento del giudice che dispone una inibitoria e qui forse si è in qualche modo voluto recuperare quella quella sorta di procedimento interinale sommario interinale che nell'ambito del 182b comma 6 e 7 può precedere il deposito di un accordo di ristrutturazione ai fini della sua omologazione anche là si chiede la concessione di un termine qui immagino anche se la norma è scritta in modo diciamo sembrerebbe che il giudice possa valutare il merito del piano al fine di sua sponte disporre la sospensione delle azioni esecutive o impedire altri atti aggressivi sul patrimonio del debitore non è così evidentemente non spetta al giudice al quale sia presentato il piano compiere questa valutazione quindi io ritengo che anche se non scritto questo termine questa sospensione vada richiesta e piuttosto a quel punto il giudice la emetterà nel momento in cui ritenga che effettivamente queste sospensioni in corso queste esecuzioni scusate in corso siano tali da impedire l'esecuzione o l'attuazione del piano mi spiego con un piccolo esempio ma è forse banale il debitore che diciamo oltre che colpito nel suo patrimonio sia anche colpito nei propri affetti e si veda sottoposto a pignoramento perché ad esempio non adempie a un obbligo contributivo in favore del figlio minore affidato all'ex compagna o congiuntamente affidato ma collocato presso l'ex compagna e magari chiederà la sospensione delle azioni esecutive ma questo tipo di esecuzione in corso non può minare l'attuazione del piano perché noi sappiamo che in ogni caso che in ogni caso i crediti impignorabili e fra questi rientrano direi con certezza anche quantomeno diciamo gli apporti contributivi a favore dei minori poi rispetto all'ex congiuse si discuterà ma anche qui credo che non si possa che convenire ecco rispetto a quell'esecuzione probabilmente il giudice dovrà emettere un non liquid rispetto a quel tipo di procedimento esecutivo perché è rivolto al soddisfacimento di un credito che è exante il legislatore ha preselezionato come meritevole in via assoluta di essere pagato al di fuori del concorso originato dal piano e quindi probabilmente vi dicevo anche perché non abbiamo delle applicazioni concrete da poter in qualche modo su cui interrogarci di cui discutere quindi si fanno ipotesi e si pongono prospettive applicative per appunto vedere assieme se questi istituti possono avere un'effettiva utilità io credo di sì comunque rispetto al piano del consumatore non vi è un automatic stay anche perché non vi è una forma di pubblicità legale degli accadimenti patrimoniali del consumatore ma abbiamo un effetto inibitorio che discende dal provvedimento del giudice che fissa l'udienza ora qui se guardiamo l'articolo 12 bis ci dice la norma sembra voler diciamo rimarcare particolarmente la celerità di questo procedimento fissa immediatamente con decreto l'udienza è chiaro che immediatamente è l'ipotesi fisiologica però nel momento in cui io credo il piano risultasse incompleto o vi sia una minima esigenza di verifica ad esempio ai fini dell'emissione dell'inibitoria rispetto alle azioni esecutive una interlocuzione quantomeno documentale credo sia da ammettere e quindi anche in relazione alla possibilità prevista precedentemente di integrare la documentazione che cosa accade a questo punto l'organismo ufficiato dal giudice provvede alle comunicazioni quindi abbiamo sostanzialmente un'esternalizzazione oltre che delle funzioni come è normale di attestazione fra virgolette di questo piano anche una esternalizzazione diciamo della fase notificatoria quindi sicuramente non si passa dall'ufficiale giudiziario abbiamo poi chiaramente una esternalizzazione di tutta la fase successiva all'omologazione quindi il procedimento potenzialmente è in grado di chiudersi in un'unica udienza molto celere sappiamo che l'udienza va fissata non oltre 60 giorni credo che anche se non devono è un'espressione stringente ma non introduca un termine perentorio quindi comunque è un termine ordinatorio che dipenderà anche dalla composizione del ruolo dal tipo di ufficio da altre cose dall'esigenza di possibile integrazione documentale che io ritengo appunto possibile anche perché se si applicano le norme del 737 tra queste norme è scolpita lettere cubitali la possibilità per il giudice di assumere informazioni quindi anche se non scritto una sia pur minima fase istruttoria è possibile potrebbe essere un'istruttoria più importante pensiamo al consumatore fra virgolette che sia contemporaneamente imprenditore fallibile a fronte di opposizioni di creditori probabilmente in questo caso il piano non prevede una possibilità di nomina di un commissario però io credo che nei casi più complessi probabilmente è rarissimo che possa verificarsi però non sia a priori incompatibile la possibilità di ricorrere ad una consulenza anche perché ma di questo parlerà il professor Soldati c'è tutto il problema del quanto il giudice possa entrare negli accertamenti e nelle dichiarazioni che l'attestatore o comunque qui l'organo di composizione della crisi ha compiuto non voglio toccare il tema delle sezioni unite 23 gennaio ma alcuni passi laddove hanno equiparato l'attestatore che tutti avremmo pensato essere un professionista sostanzialmente straneo alla procedura invece sia pur forse soltanto al limitato fine del sindacato delle sue dichiarazioni come organo che al contempo assimilabile a un ausiliario del tribunale quindi non soltanto organo che si rivolge ai creditori ma anche al tribunale è chiaro che nei casi più complessi però rarissimi ma comunque possibili si può porre l'esigenza di nomina di un consulente in questa fase quindi pre-omologa per chiarire che cosa e qui si tocca un problema il comma 3 dell'articolo 12 bis per il sottoscritto è abbastanza preoccupante perché perché non si deve sostanzialmente occorre verificare la regolarità della documentazione e questo è minimale non c'è un controllo su una maggioranza ma c'è molto peggio verificata la fattibilità del piano l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'articolo 7 comma 1 terzo periodo cioè stiamo parlando dei crediti tributari destinati all'unione europea dei contributi quindi qualcosa che potrebbe essere rilevante non qui è anche da chiedersi perché è stato questo secondo a mio avviso è una chiara indicazione sulla possibilità dell'imprenditore di poter percorrere questo piano per le obbligazioni di contenuto esclusivamente familiare e personale perché pensare ad un avrebbe scarsissimo significato per diciamo un consumatore finale parlare sia di contributi chiaramente che parlare di IVA tanto per essere chiari è evidente forse che si è voluto anche qui in qualche modo forse implicitamente o forse addirittura inconsciamente consentire quello che abbiamo detto lo splitting oggettivo dei debiti di un soggetto che ha sia un ruolo economico imprenditoriale sia un ruolo di consumatore lo potremmo anche leggere in modo minimale alcuni acquisti manutenzioni ristrutturazioni eccetera comprendono una parte di IVA quindi magari però qui molto spesso che cosa avviene che il consumatore finale che non è a sua volta un soggetto sottoposto a IVA non può portare in compensazione quindi in realtà lui paga a fronte dell'emissione di una fattura e quindi poi è da discutere se lui sia il debitore rispetto ecco quindi voglio dire questo inciso non ha senso a parte la colf magari per i contributi ma non ha senso se non ammettiamo che anche l'imprenditore possa in qualche caso servirsi di questa procedura poi deve compiere diciamo una valutazione che sembra è formulata in negativo e cioè quando può escludere che il consumatore quindi non quando appare probabile quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere quindi qui siamo rispetto alla preordinazione ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento e qui stiamo parlando di una serie di comportamenti o depauperativi perché l'alterazione presa in esame nella definizione di sovraindebitamento può derivare o dal fatto che ho depauperato il patrimonio e quindi l'equilibrio iniziale esistente è venuto meno oppure immutato la mia situazione patrimoniale ho fatto la cicala assumendo ad esempio 10 crediti al consumo partecipando a tutte le televendite possibili e compiendo una serie di atti sconsiderati ora è chiaro anche a mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali è chiaro che come venga interpretato questa norma decide sostanzialmente sulla utilizzabilità pratica o meno di questo istituto è inutile nasconderselo interpretazioni deflattive possono sicuramente per non dire altro possono sicuramente impedire di percorrere questo istituto perché se io devo fornire la prova bisogna poter escludere non si accerta che non ha fatto ragionevolmente deve escludere io penso che si debba interpretare secondo un metro probatorio del più probabile che non quindi non occorrerà la certezza ma occorrerà un giudizio di verosimiglianza magari qualificata ecco queste frasi potrebbero lasciare il tempo che trovano semplicemente che cosa diventerà importante e qui mi collego ma di questo si affronterà credo successivamente e mi avvio poi velocemente alla conclusione diventerà importante la relazione che l'organismo di composizione della crisi e comunque oggi i professionisti o gli ordini professionali redigono e che è allegata al piano perché è chiaro che se noi andiamo all'articolo 9 comma 3 bis in cui vediamo come è composta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi capiamo che è un elemento centrale di questo istituto perché non soltanto deve riportare i dati che compongono l'attivo ricapitolare i dati chiaramente che compongono il passivo quindi accertare sostanzialmente una sorta di veridicità che è prodromica al giudizio di fattibilità come ci aveva già insegnato la giurisprudenza ad esempio anche con riferimento al piano attestato in cui non si richiedeva espressamente la norma il 67 lettera E non richiedeva espressamente l'attestazione di veridicità ma la giurisprudenza era ormai da tempo incline a richiedere questa ulteriore attestazione e questo orientamento è stato recepito a livello legislativo oggi quindi qui abbiamo una relazione che è molto impegnativa perché non è soltanto statica è un detective gli si chiede di indicare le cause dell'indebitamento la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni che non può essere chiaramente una valutazione della psiche o dell'elemento soggettivo del consumatore ma dovrà essere quella comparazione fra patrimonio e obbligazioni assunte e direi anche fra redditi quindi sarà anche fra flussi reddituali e ad esempio importo e numero dei rati restitutori assunti nell'ambito delle più eventualmente operazioni di credito al consumo che il debitore ha effettuato ma ci deve dare anche le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte a mio avviso sta ripetendo la norma le cause dell'indebitamento sostanzialmente a meno di non voler dire che le cause dell'indebitamento sono solo le fonti che hanno determinato l'indebitamento ma soprattutto un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni e quindi il professionista cosa farà chiede tutti gli scontrini degli ultimi cinque anni insomma mi fermo qui perché di questo credo che comunque si parlerà è chiaro che la relazione è centrale una relazione che sia ampia completa e ben motivata oggettivamente motivata permetterà io credo di più serenamente superare quel vaglio sia sulla fattibilità del piano sia su tutti quegli elementi è per la prima volta che si affronta questa commistione fra elementi soggettivi cause del sovraindebitamento e diligenza per certi versi c'è quasi un'indagine che è simile a quella sugli elementi soggettivi o della bancarotta o dell'accesso abusivo al credito siamo a metà strada chiaramente non stiamo parlando di queste fattispecie penali ma una indagine che deve in qualche modo emergere è chiaro che nella misura in cui siano proposte delle opposizioni e qui tocco l'ultimo aspetto questa indagine può diventare più approfondita da parte del giudice e determinare delle necessità istruttorie ma qui si trova un ulteriore elemento di sconcerto e perché le opposizioni non possono riguardare soltanto come eravamo abituati a pensare nell'ambito del concordato o profili di legittimità o profili di convenienza il cosiddetto crumb down e quindi la valutazione comparativa fra la soddisfazione ottenuta nell'ambito del piano e nell'ambito di una liquidazione che qui non può essere chiamata neanche concorsuale quindi sostanzialmente dobbiamo ipotizzare che una liquidazione comunque attraverso procedimenti esecutivi possa dare dei risultati diversi e migliori di quelli del piano altrimenti comunque il piano passa nonostante opposizione ma quello che a mio avviso è più sconcertante è mentre nel concordato noi siamo abituati a ritenere che le decisioni in ordine all'entità dei crediti che occorre soddisfare sono oggetto di una valutazione incidentale ai soli fini del concorso e nulla preclude eventuali eventuali successivi giudizi di merito qui abbiamo una frase che ci consente di ritenere proponibile un'opposizione in ordine all'entità cioè il creditore può intervenire in questo procedimento e contestare l'entità del credito che gli è stato attribuito e infatti si dice che è il giudice delegato che risolve anche il giudice che risolve anche questa anche questa questa situazione ora io credo se vogliamo dare un'interpretazione costituzionalmente orientata che anche qui siccome sono richiamate le forme camerali siccome non siamo di fronte a un giudizio ordinario siccome stiamo parlando di una dimensione da soddisfare attraverso il concorso un concorso appunto in base alle previsioni del piano io credo che anche qui la decisione del giudice non possa che essere provvisoria e tuttavia anche questo decreto nella parte in cui risolve le questioni quantitative resta comunque reclamabile quindi ci si deve comunque interrogare anche su questo aspetto è chiaro che queste problematiche potrebbero riguardare soprattutto io credo non tanto il capitale ma potrebbero riguardare la misura degli interessi potrebbero riguardare delle questioni perché pensiamo ad esempio a un consumatore che predispone un piano di soddisfacimento nel quale l'istituto di credito viene pagato quanto ha capitale e gli viene proposta una sterilizzazione degli interessi nella misura superiore a quella legale ora di questi tempi può anche darsi che l'istituto di credito non faccia opposizione però non è da escludere che si apra una problematica relativa a questi interessi ora qui il tema è abbastanza delicato perché è vero che qui il giudice decide anche il conflitto quantitativo però come abbiamo detto è un provvedimento reclamabile ora io ho dei dubbi però non posso chiaramente avere delle risposte sul fatto che il provvedimento del giudice in questa sede abbia diciamo un valore decisorio lo avrà internamente al procedimento sicuramente resta possibile per il creditore diciamo a mio avviso resta possibile per il creditore che si era opposto sul quantum far valere questa differenza su eventuali beni estranei alla liquidazione però il punto è delicato perché si potrebbe sostenere che questa fase esaurita determina l'esdebitazione il punto questo secondo me anche se può avere diciamo delle occasioni limitate di applicazione però l'esempio che vi ho fatto è un esempio credo concreto trovare un punto di equilibrio fra forme camerali e giudizi su diritti che potrebbero in realtà realizzarsi in questa fase mi sembra uno dei punti più critici di questo procedimento mi fermerei qui grazie a questo punto la parte più semplice dell'intervento di oggi nel senso che vedere che cosa possono fare gli organismi di composizione della crisi cosa possono fare i professionisti d'altra parte il programma l'ho fatto io quindi mi sono ovviamente ritagliato la parte più semplice della giornata però mettendomi per ultimo mi sono dato anche un impegno a pensare quello che possono essere quelle che potevano essere le indicazioni provenienti dalle relazioni che mi hanno preceduto e da questo punto di vista devo dire che sono emerse e stimolanti interpretazioni e indicazioni in relazione a questa nuova normativa talmente nuovo che a quanto mi consta il tribunale di Modena non è ancora una e la settimana scorsa il tribunale di Bologna ho parlato con il dottore Azzori mi ha detto che ne hanno ricevute tre fino a questo punto e peraltro si lamentava in modo diciamo così dal punto di vista giuridico della mancanza di interesse nella procedura ma non in senso quante poche procedure hanno portato fino a questo punto ma nel senso che a suo avviso le domande così come presentate non andavano a cogliere quello che era lo spirito della norma ma soprattutto utilizzavano la norma al 10% cioè lui dice alla fine non sono altro che delle proposte di rateizzazione del dovuto una sorta di accordo stragiudiziale a cui andiamo a mettere un bollino particolare della legge 3 del 2012 ma in realtà il legislatore voleva qualcosa di diverso non so dirvi se effettivamente ci si è riuscito ad esprimere qualcosa di diverso le norme dell'ultima versione sono sicuramente più complesse rispetto a quelle che vedevamo nella prima fase perché nella prima fase la procedura di sovraindebitamento si era appiattita come ci ha ricordato il dottor Limitori in apertura ad una applicazione delle norme dell'accordo di ristrutturazione dei debiti per il soggetto non fallibile invece adesso con questa apertura al consumatore col cambiamento delle norme con un passaggio forse di vicinanza della normativa più al concordato preventivo rispetto all'accordo di ristrutturazione abbiamo avuto un capovolgimento di fronte molto interessante e se volete da un certo punto di vista ha reso questa procedura più fattibile perché un'idea di pagare per intero i creditori estranei comportava dal punto di vista pratico un esborso sicuramente maggiore in capo al soggetto che presentava la domanda è chiaro che una quantità di criticità a queste norme si porta dietro come del resto si portano dietro tutte le normative nuove perché nel nostro paese l'esdebitazione del soggetto non fallibile o dell'imprenditore sotto soglia la procedura permessa al consumatore persona fisica è qualcosa che nei nostri libri di studio mai abbiamo visto eletto salvo quei pochi fortunati che si erano occupati di diritto comparato e queste procedure le avevano viste ad esempio in Germania o in Francia però è chiaro che oggi noi dobbiamo fare i conti con una nuova professionalità tanto è vero che anche il presidente del consiglio nazionale forense in una delle sue varie periodiche uscite ha detto benissimo siamo fortunati e dobbiamo cavalcare l'onda di questo nuovo ruolo dell'avvocatura per la soluzione della crisi indubbiamente l'avvocatura potrà avere un ruolo importante nella gestione di queste procedure anche se poi parlandone peraltro anche a pranzo con il dottor Limitoni quindi sfruttando fra virgolette la sua professionalità e la sua esperienza perché penso che sia forse uno dei casi più unici che è rare in Italia perché da quando è iniziato l'attività del magistrato è sempre stato giudice delegato quindi nella sua esperienza più che ventennale ormai ha visto solo e esclusivamente queste procedure per meglio dire ciò che riguarda il mondo fallimentare e anche lui conveniva con me che potrebbe che potrebbe essere particolarmente importante o strategico che all'interno di questi organismi ci siano sinergie interprofessionali perché probabilmente l'avvocato da solo non è in grado di seguire per intero questa fase così come dall'altra parte un commercialista per intero potrebbe avere delle difficoltà ovviamente spero di non offendere nessuno dando indicazioni di questo tipo ma a mio avviso ci sono veramente tante particolarità quello che ci ricordava adesso il dottor Farolfi in relazione al piano alla domanda all'attestazione che viene fatta quindi tutta una serie di indagini tutta una serie di indicazioni tutta una serie di ricostruzioni numeriche che non sono particolarmente semplici e soprattutto poi questo lo dirò in chiusura del mio intervento che comportano anche dei profili di responsabilità non di poco momento anche perché non penso solo a seguito delle introduzioni della responsabilità per la penale dell'attestatore in materia di concordato preventivo però diciamolo fin da subito ricordiamocelo fin dall'inizio che in materia di sovraindebitamento il professionista l'organismo di composizione della crisi ce lo dice l'articolo 16 ha anche delle responsabilità di natura penale e se volete quello che a me lascia sempre molto perplesso quando vedo norme di questo tipo è pensare ad esempio alla sanzione per il consumatore faccio il riferimento in modo particolare al consumatore che nasconde o che non racconta completamente tutto all'organismo di composizione della crisi o al professionista perché lo sappiamo benissimo quando i clienti vengono da noi io sono convinto che se ci raccontano il 70% di ciò che effettivamente è accaduto o di ciò che sanno è già tanto perché molto spesso te ne raccontano di meno allora perché dovrebbero aprirsi di più rispetto ad un organismo che non è neanche il loro professionista e quindi io come attestatore io come professionista che presento la domanda che assisto che seguo tutta questa fase della procedura mi ritrovo anche una sanzione penale probabilmente perché non ho fatto il terzo grado alla persona che si è rivolta a me perché non l'ho torturato a sufficienza perché non ho indagato a sufficienza se avevo un debito fiscale se non aveva pagato delle multe se aveva avuto delle ganasce cioè tutta una serie di cose che si chiedono molto difficile da indagare in capo al professionista ma la stessa sanzione penale che mi fa sorridere è ma partiamo da questo presupposto se questo soggetto è effettivamente indebitato e concordo con quello che diceva il dottor Farofi non pensiamo alla patologia pensiamo semplicemente alla fisiologia se questo è indebitato già di per sé dovrebbe avere qualche problema mentale perché forse è andata al di sopra dei limiti del suo indebitamento ma su questo farò un cenno dopo gli diamo lui dichiara il falso e gli diamo una sanzione che arriva fino a 50.000 euro ma se era indebitato e non aveva soldi per pagare i creditori come si faranno a recuperare 50.000 euro è chiaro che forse nemmeno la galera fino a due anni può aiutare però è chiaro che una sanzione penale è giusto che ci sia come come dicevano che la sanzione della pena è la determinazione di ciò che è giusto quindi tu sai che se dici il falso hai una sanzione penale ma è una sanzione penale che nella realtà rimane praticamente sprovvista di qualsiasi realtà pratica ma ancora stavo pensando ad una cosa mentre i due relatori che mi hanno preceduto parlavano immaginatevi il sovraindebitato che non ha i soldi per pagare la rata del condominio allora a quel punto abbiamo il contagio del sovraindebitamento perché uno dice ma perché devo pagare anche le sue dispese quindi alla fine tutti i condomini faranno una procedura di sovraindebitamento e a quel punto ci sarà il condominio a fare la procedura di sovraindebitamento perché lo stesso amministratore poi a sua volta farà la procedura di sovraindebitamento perché i condominio non gli pagano la sua parcella e così via quindi è un qualcosa che veramente è preoccupante ma ancora il legislatore non lo so forse si è dimenticato di rendersi conto di come effettivamente sono le persone cioè se vi è capitata la fortuna o lo sfortuno oppure se lo volete utilizzare in alternativa guardare un documentario del National Geographic andate alla COP quando c'è lo sconto del 20% trovate nell'area informatica la gente ed è già non è la prima volta che capita che hanno dovuto chiamare la polizia perché c'erano le risse per comprare i prodotti prima che venissero esauriti è chiaro che questi prodotti nel 50% dei casi vengono presi attraverso forme di finanziamento o di rateizzazione a fronte di tutto questo è chiaro che noi ci ritroveremo dei soggetti che probabilmente accederanno a queste procedure una volta che avranno immotabolizzato l'idea che non sia un'onta presentare una domanda di questo tipo e quindi ci ritroveremo con dei soggetti che se poi ricadono fra virgolette nell'ambito di dire ma mi compro un altro video del registratore a rate dopo aver fatto la procedura di sovraindebitamento ecco che gli scatta la sanzione penale quindi è una normativa che di per sé è costruita in un modo creativo in un modo che probabilmente sta in piedi in un modo che dovrà tecnicamente essere testata all'atto pratico fase per fase ma che vede comunque gli organi di composizione della crisi in prima in prima fila vediamo prima di tutto dal punto di vista soggettivo chi possono essere questi organi organismi di composizione della crisi la normativa in modo particolare è l'articolo 15 che disciplina questo aspetto parla di organismi costituiti da enti pubblici quindi organi pubblici e viene spazzata via ogni contestazione che si era trovata anche nell'ambito di certi aspetti della composizione negoziale della crisi che era stata sentita moltissimo ed era stata contestata moltissimo in relazione alla mediazione cioè un discorso di privatizzazione della giustizia qui ovviamente non c'è giustizia salvo casi particolari perché l'organismo di composizione della crisi potrebbe soggettivamente coincidere con gli organismi di mediazione in taluni casi e da altri aspetti in relazione alle funzioni che è chiamato a svolgere dovrebbe anche comporre ogni conflitto che sorge nel corso della gestione dell'accordo dell'esecuzione dell'accordo quindi abbiamo questi enti pubblici che sono chiamati a svolgere le funzioni la normativa nella fase precedente quindi prima dell'ultima versione prevedeva organismo di composizione della crisi e in fase transitoria fin tanto che non fossero stati emessi decreti attuativi anche ai professionisti secondo me dall'ultima lettura che si può dare oggi del testo organismi di composizione della crisi si affiancano ai professionisti tanto è vero che lo stesso articolo 16 scusate lo stesso articolo 15 perché il 16 è quello relativo alle sanzioni fra proprio una distinzione fra l'organismo di composizione della crisi e i professionisti il comma 9 infatti dice che i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società di professionisti e quindi non fa più quel riferimento che ci dava l'articolo 20 delle disposizioni transitorie che è stato abrogato con l'ultima modifica che prevedeva l'intervento del professionista solo in fase transitoria quindi abbiamo questa duplicità di via organismo di composizione della crisi o professionista che se volete è una distinzione solo meramente di natura soggettiva nel senso che l'organismo di composizione della crisi è visto come possiamo dire un organismo collettivo riferito ad un ente pubblico riferito quindi ad un soggetto giuridico che al suo interno ha dei professionisti che svolgono questo tipo di attività dall'altra parte invece si fa proprio un diretto riferimento al singolo professionista che può essere avvocato commercialista o notaio e quindi un soggetto che si affianca sempre dal punto di vista soggettivo per guidare il consumatore o l'imprenditore sotto soglia nella gestione di questa fase del procedimento ma quando si parla di organismi quindi non di singolo professionista noi abbiamo una tripartizione di soggetti che possono svolgere secondo la norma questo tipo di attività la prima categoria è costituita dagli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio e quindi è qua che facevo quel richiamo che vi ho fatto in precedenza alla mediazione ma per quella che è la mia esperienza qualcuno di voi lo sa mi è già capitato di parlare in questa sede di mediazione quindi da un certo punto di vista potrei auspicare che visto che ho parlato di mediazione poi è stata abrogata cioè fra virgolette che parlando di sovraindebitamento vadano ad abrogare anche quello cioè che io porti così tanta sfortuna che quando parlo di una cosa poi la vanno ad abrogare tornando indietro nel tempo il processo societario ad esempio però speriamo speriamo che possa accadere anche questo perché il sovraindebitamento ha degli aspetti interessanti degli altri che mi lasciano un pochino dubbioso comunque il primo è l'organismo di mediazione presso le camere di commercio e per quella che è la mia esperienza perché ho fatto anche il formatore dei mediatori la formazione fatta è una formazione completamente diversa cioè chi è mediatore ha una formazione che che ne dica l'ex presidente dell'organismo unitario dell'avvocatura che ha fatto il suo nuovo organismo per poter continuare a parlare della mediazione il suo nuovo sindacato che è completamente diversa cioè durante i corsi di mediazione non si parla di questo quindi vorrà dire che quegli stessi organismi dal punto di vista strutturale saranno presenti ma indubbiamente coloro che sono iscritti all'interno di questi organismi dovranno maturare una professionalità diversa cioè dovranno essere seguiti dei percorsi di formazione particolari salvo che qualcuno non abbia già delle specifiche competenze cioè se all'interno fra gli iscritti di queste camere di commercio noi abbiamo professionisti che normalmente fanno i curatori fanno i commissari giudiziali quindi hanno questo tipo di attività questo tipo di comunanza questo tipo di abitualità con le procedure concorsuali ecco che allora ci sarà maggiore facilità e meno necessità di formazione ma se ragioniamo diversamente io escludo che si possa totalmente equiparare il mediatore ad un soggetto che deve svolgere questo tipo di attività poi c'è una seconda categoria che mi lascia ancora più dubbioso che sono i segretariati sociali per l'informazione e la consulenza al singolo e i nuclei familiari la legge 328 del 2000 io prima dichiaro la mia totale ignoranza prima di questa norma saprei neanche che esistessero questi soggetti giuridici ma al di là del fatto che il fatto che io non riconosca non è particolarmente rilevante anche qua io sono a reclamare la necessità di professionalità di questi soggetti e quindi un tipo di formazione un tipo di percorso perché l'assistenza che deve essere data all'imprenditore sotto soglia e al consumatore è un tipo di assistenza molto particolare io non escludo nessuno io non escluderei nessuno dai nastri di partenza però ai nastri di partenza vorrei fare una valutazione seria e approfondita della capacità professionale di questi soggetti tanto è vero che poi la legislazione richiede garanzie di professionalità in capo a questi organismi o in capo ai professionisti perché è proprio su questo che si deve battere perché se noi prendiamo un consumatore non possiamo pensare che abbia una formazione giuridica una conoscenza di norme che gli permetta di gestire questa domanda di accedere a questa fase da solo ha necessità di avere un certo tipo di supporto ma quel supporto deve essere qualificato e professionalmente valido proprio per assicurare quella funzione pubblica dell'organismo pubblico diciamo così e per garantire che non venga questo strumento utilizzato sistematicamente in misura patologica teoricamente questa seconda mia perplessità dovrebbe essere superata completamente dalle eventuali sanzioni penali in capo all'organismo però è solo l'applicazione pratica che potrà darci una risposta poi vengo alla terza categoria sicuramente quella che ci vede più interessati da vicino che sono gli ordini professionali degli avvocati degli commercialisti esperti contabili e dei notai ritengo che la categoria dei notai non fosse altro perché non sono particolarmente numerose sul territorio benché la crisi immobiliare li porta a ricercare nuovi ambiti di applicazione non dovrebbero essere particolarmente interessati a queste procedure che sulla carta non appaiono particolarmente ricche per il professionista che le segue mentre noi poveri avvocati e i più fortunati commercialisti probabilmente avranno la possibilità di cimentarsi in questa nuova tipologia di attività che comunque sulla carta diciamocelo chiaramente allo Stato non appare particolarmente redditizia cioè diciamocelo molto chiaramente qua siamo ben lontani da quei compensi che vanno a prendere gli organi di procedure fallimentari o concordatarie qui siamo veramente ma non fosse altro per il fatto che parliamo di cifre nettamente inferiori parliamo di imprenditori sotto soglio di fallimento e parliamo di consumatori potremmo parlare di sovraindibitamente di qualche migliaio di euro può poi arrivare sicuramente in relazione all'imprenditore anche a cifre superiori però il range economico non fa sicuramente pensare a delle cifre particolarmente consistenti per i professionisti che assistano le parti all'interno di questa procedura la funzione dell'organismo questo è molto chiaro sia dalla lettura della norma dalle relazioni di accompagnamento dai commenti dottrinarie quella di perseguire un interesse pubblico è chiaro che quindi l'interesse pubblico è la primaria visione che si vuole seguire di carattere generale consistente nella risoluzione della situazione di crisi da sovraindimento a beneficio dell'intera collettività quindi una funzione molto importante ed una funzione che deve essere gestita da soggetti con determinate caratteristiche di qualità e di professionalità proprio per il fine che si vuole perseguire attraverso questo strumento per quello che riguarda sempre la tariffa qui ci sono la dottrina ha evidenziato una certa come possiamo dire criticità perché come sempre accade negli ultimi provvedimenti normativi si dice sempre che questi organismi devono agire senza gravare sui costi dello Stato quindi con invarianza di spesa questo sta a significare che se gli organismi non possono contare su nessuna ilargezione perché non può essere non può essere generato un ulteriore costo a carico delle casse dello Stato vuole dire che da qualche parte queste somme dovranno uscire ma allora queste somme da dove usciranno usciranno dalle tasche del sovraindebitato o verranno spalmati sulla procedura come accade ad esempio nel concordato visto questa nuova somiglianza con il concordato si può immaginare che il costo dell'assistenza che l'organismo di composizione della crisi darà al sovraindebitato sarà un costo che andrà a spalmarsi sul ceto creditorio e quindi un qualcosa che probabilmente sempre in analogia potrebbe seguire la via di un 111 quindi andare in prededuzione a favore dell'organismo di composizione a favore del professionista così come accade per il curatore così come accade nelle altre procedure quindi da questo punto di vista sì è ovvio che ma è la stessa norma che ce lo ricorda ci saranno i compensi fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo che ad oggi non c'è ancora e anche qua è abbastanza curioso perché non si capisce se il termine sia stato mangiato già in considerazione delle entrate in vigore della norma nel 2012 o se a fronte della modifica visto che la normativa è entrata in vigore dal 18 di gennaio se i decreti attuativi debbano essere portati e quindi vedere la luce nei termini a partire dalle entrate in vigore ma lasciando perdere questa problematica temporale il comma 9 dell'articolo 15 ci dice che fino all'entrata in vigore del regolamento i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo quanta è l'attività di cui è la prima sezione del presente capo e per i curatori fallimentari quanta è l'attività della sezione seconda i predetti compensi per attenzione sono ridotti del 40% qui si può riecheggiare quella che è la nuova idea dell'approccio rispetto al professionista pensate alle previsioni che nelle liti dal giudice di pace non può essere liquidato una somma superiore al valore del liquidato nella causa che è già stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale la problematica del precetto limitato al 150% quindi dell'esecuzione immobiliare abbiamo tutta una serie comunque di normative o di provvedimenti che si sono susseguiti in questi ultimi anni che stanno cercando le nuove tariffe degli avvocati di portare comunque a una diminuzione del peso del costo del professionista staremo a vedere quando usciranno questi parametri e vedremo se questi parametri saranno adeguati o meno perché altrimenti anche qua si aprirà un ulteriore problema cioè se effettivamente i parametri saranno o rischieranno di essere incredibilmente bassi a quel punto bisogna vedere chi è o chi si dichiarerà disponibile a seguire questo tipo di attività che a mio avviso non è assolutamente semplice che richiede un grande dispendio di energie perché deve essere seguito il professionista l'organismo di composizione della crisi segue il sovraindebitato dal deposito della domanda alla sua esecuzione risolvendo tutti i problemi che ci sono anche in corso di esecuzione del tipo abbiamo avuto la sfortuna tremenda del terremoto quindi io avevo fatto il mio piano a questo punto non sono in grado più di fare niente perché quello è un ulteriore problema ecco che riparti da capo vedere con che possibilità hai di ritornare a negoziare su quello che è già stato omologato se fare una risoluzione se ripartire da capo vedere quale consecucio di procedure ci deve essere e anche qui capite che probabilmente i problemi saranno saranno tanti così come un altro problema e qui mi ero fatto un appunto prima che diventa abbastanza anzi che diventerà sicuramente fonte di giurisprudenza è capire quale potrà essere il rapporto penso che capire sia semplice ma sarà vedere come verrà risolto nella pratica di un concorso fra una procedura di sovraindebitamento e un'istanza di fallimento perché a seguito della riforma del 2007 poiché la dimostrazione della non fallibilità è in capo all'imprenditore nei cui confronti viene presentata la domanda io mi potrei trovare con un'istanza di fallimento dopo aver presentato una procedura di sovraindebitamento allora qui si apre un problema da una parte la domanda mi verrebbe da pensare che è più facile che la come possiamo dire la sovrapposizione delle due procedure si abbia in fase di apertura perché se sono in sovraindebitato piano piano rischio di finire comunque sotto soglia con il passare del tempo quindi forse è proprio la fase iniziale che è quella che potrebbe dare maggiori problematiche ma allora io mi chiedo chi è che valuta se la procedura è applicabile o meno al sovraindebitato io mi pongo come professionista di un organismo di composizione della crisi si presenta il signor Tizio il quale dice vorrei fare una procedura di sovraindebitamento bene la prima cosa che dovrà fare l'organismo di composizione della crisi è quella di valutare se quel soggetto è un soggetto che potrà essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento ovviamente faccio riferimento all'imprenditore questo non è un problema che riguarda il consumatore salvo quell'ipotesi di consumatore e al tempo stesso imprenditore ma mi pare che sia abbastanza semplice sulla carta o quantomeno più semplice il problema diverso è se mi si presenta l'imprenditore perché io come professionista dovrò ricavare tutti i dati necessari e comprendere se quello è un soggetto fallibile oppure no quindi già in questa fase cioè la prima volta che vedo il sovraindebitato dovrò subito fargli uno screening per capire se è soggetto fallibile oppure no perché come posso ipotizzare che io come professionista avvalli o comunque dica benissimo lei può accedere a una procedura di sovraindebitamento senza aver valutato i requisiti soggettivi di questa persona che mi si è presentata e quindi senza avergli detto guardi che lei non è un soggetto che può presentare questa tipologia di domanda oppure aspettiamo sei mesi così andiamo sotto soglia ecco questa fase iniziale dei soggetti a cavallo della soglia a mio avviso è uno dei problemi che si avranno per il sovraindebitamento dell'imprenditore problema che invece nel modo più assoluto non si pone con il consumatore rispetto al quale invece ci sono dei problemi diversi io li chiamerei di natura sociologica anche perché capire il pensionato plura sovraindebitato che mi si presente che mi racconta l'1% di ciò che mi vuole raccontare e poi pensare che alla fine io abbia la responsabilità non è che mi piaccia particolarmente e quindi quelli io li indirizzerei verso quegli organismi particolari di cui vi dicevo non sapevo neanche l'esistenza questo come aspetto ma allora andiamo a vedere facciamo un rapidissimo escursus di quelli che sono i compiti dell'organismo di composizione della crisi è ovvio che le norme che sono state in parte esaminate dai relatori che mi hanno preceduto ci danno qua e là delle indicazioni ma probabilmente la prima norma è l'articolo 7 il debitore in stato di sovrededitamento può proporre ai creditori con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi ecco che quindi fin dall'inizio noi vediamo che la composizione della crisi viene gestita dall'organismo l'organismo sarà quello che seguirà predisporrà darà l'assistenza al soggetto che gli si è rivolto ancora una volta qua noi dovremo però ipotizzare sempre dal punto di vista pratico un diverso approccio di questo insovraindebitato perché da un lato noi potremmo ipotizzare il consumatore che si presenta da solo mi viene più logico pensare che il consumatore si presenti da solo ma meno logico mi viene da pensare che l'imprenditore sotto soglia si presenti a un organismo da solo molto probabilmente avrà un suo professionista che farà da filtro molto probabilmente avrà un professionista che magari lui indirizza ad esempio a un avvocato che dice prova a sentire vediamo se il commercialista ti fa da professionista per la composizione della crisi quindi è chiaro che ci ritroveremo anche in questa fase allora se volete diventa probabilmente più semplice lavorare con un professionista a monte che ha già vagliato che ha già preparato una domanda che ha già predisposto la documentazione perché la norma così come è disegnata fa pensare che l'organismo sia proprio lui a predisporre la domanda una volta che ha ricevuto il sovraindebitato ha ricevuto la documentazione ha messo insieme la documentazione poi in questa fase iniziale noi abbiamo l'ausilio dopodiché il deposito della proposta la proposta deve essere presentata a cura dell'organismo di composizione della crisi quindi il sovraindebitato non può accedere al tribunale al di fuori di un'assistenza di questo tipo e qua possiamo considerarla se volete da un certo punto di vista una novità perché l'imprenditore che chiede in proprio fallimento si può presentare da solo mentre in questa fase non si chiede la presenza di un professionista ma si chiede la presenza di un organo di composizione della crisi quindi abbiamo un organismo che fa da filtro fra chi è il sovraindebitato e chi deve valutare questo tipo di domanda che viene presentata e poi come diceva il dottor Farolfi prima la cosa più preoccupante la cosa più complessa della prima fase di questa procedura per l'organismo di composizione della crisi è data dalla relazione perché alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere e poi abbiamo tutta una serie di elementi l'indicazione delle cause del sovraindebitamento della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ma qua io sono convinto ma forse sono un po' troppo cattivo che il legislatore non abbia la minima idea di cosa vuole dire essere consumatore il consumatore pseudo compulsivo che compra di tutto perché è al morbo dell'ultimo telefono per il figlio per il figlia e per sé dell'iPad piuttosto che dell'altro tablet è tutta una serie di gadget tecnologici che deve necessariamente avere pensiamo al sovraindebitato che ogni giorno prende 150 euro di gratte vinci basta soffermarsi 10 minuti in una tabaccheria mettetevi fuori da una tabaccheria se non volete stare dentro vedete le persone che entrano valutate chi compra i gratte vinci e dopodiché potete fare una valutazione di quanti già all'apparenza solo all'acquisto del gratte vinci appaiono sovraindebitati secondo me è l'80% però al di là di questa mia valutazione assolutamente personale io quello che volevo rappresentarvi è questa idea del legislatore di un consumatore persona diligente di un consumatore persona preparata di un consumatore che è in grado di gestire con professionalità una normativa di questo tipo è chiaro che il legislatore probabilmente dice il consumatore non ha tutta questa diligenza e tutta questa professionalità ecco perché mi sono inventato l'organismo di composizione della crisi che con un'attività che va dal professionista all'assistente sociale all'abbadante piuttosto che altri tipi di attività mette insieme il tutto e vigila sull'operato di questo soggetto perché l'operato del soggetto non si ferma con la presentazione della domanda ma consta anche di un'esecuzione dell'accordo e di una verifica che in costanza di accordo non vengano fatte delle violazioni e qua ovviamente questo concetto molto grossolane di fatte delle violazioni vado all'articolo 16 che è quello che riguarda le sanzioni giusto per citarvene una che secondo me fra le varie è quella più significativa nel corso della procedura effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore ma noi come facciamo a sapere noi come facciamo a dire ma guardi che lei non può pagare nessuno e avere la certezza che questo non paghi nessuno oppure che dopo il deposito della domanda e per tutta la durata aggrava la sua posizione debitoria ma a questo punto come si fa a non aggravare la posizione debitoria qualsiasi acquisto allora vuol dire che io vado a commissariare vuol dire che io gestisco il conto corrente vuol dire che io gestisco le finanze vuol dire che io vado a prendere la pensione del consumatore è ovvio che il problema più consistente è per il consumatore perché l'imprenditore se lo fa lo fa all'insaputa ma lo fa anche in modo un pochino più furbesco rispetto al consumatore ma su questo c'è una responsabilità penale anche dello stesso consumatore ma andiamo avanti una volta completata la domanda con l'attestazione passiamo alla fase dell'omologazione dell'accordo passiamo alla fase del voto anche in questo caso la comunicazione ai creditori passa sempre per l'organismo di composizione della crisi il quale lo fa con raccomandata oppure lo fa fortunatamente con la posta elettronica certificata facendo riferimento a tutti quegli strumenti che ci permettono la varia anagrafe delle poste certificate il registro imprese a cui adesso anche non le società ma gli imprenditori devono comunicare la propria PEC e quindi abbiamo tutto una serie di facilitazione dal punto di vista tecnologico il giudice se la proposta siamo all'articolo 12b di cui parlava prima il dottor Farofi per il consumatore se la proposta soddisfa i requisiti fissa immediatamente con decreto l'udienza disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi la comunicazione almeno 30 giorni prima della proposta del decreto probabilmente la cosa più lungimirante che è stata fatta in questa norma è stata bypassare le comunicazioni di cancelleria e l'attività degli ufficiali giudiziari già di questi dovremmo rendere grazie all'infinito al legislatore perché semplifica la nostra attività o quantomeno la certezza di avere in tempi più brevi le comunicazioni ma vorrei ritornare a per un attimo alla ai compiti del professionista e quindi se vogliamo cercare di dare una sintesi di quelli che sono le attività che il professionista deve svolgere possiamo dire che prima di tutto abbiamo quella di assistere il debitore o il consumatore nella predisposizione della proposta e dei documenti che l'accompagnano verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ma guardate che verificare la veridicità dei documenti come diceva prima il dottor Farofi e gli scontrini va bene che Monti dice tenete tutti gli scontrini però capite che diventa abbastanza problematico adesso io penso al consumatore i quali sicuramente non li tiene ma pensiamo all'imprenditore pensiamo con quale diligenza l'imprenditore di piccole dimensioni tiene la propria contabilità o se vogliamo essere ancora più precisi della totale confusione fra patrimonio personale e patrimonio imprenditoriale dei piccoli imprenditori i quali gestiscono tutto come fosse un unico pensiamo quanta fatica facciamo a spiegare ai clienti alle società nostre clienti società di persone società a responsabilità limitata di dire attenzione il bene che compri con la società è un bene della società non lo puoi usare per tuo figlio per andare a scuola o cose è un bene della società questo comporta eventualmente in caso di fallimento tutta una serie di applicazioni di norme di cui una forse la più famosa e che spaventa di più l'imprenditore è quella della banca rotta ma al di là di questo noi possiamo sforzarci gridare al vento ma il cliente tanto mai ti ascolterà attestare la fattibilità del piano anche qua è chiaro io posso attestare la fattibilità del piano pensiamo a quello che accade nel concordato preventivo pensate che ad esempio uno dice ma io potrei arrivare ad un concordato vendendo questo immobile e percependo queste somme di denaro benissimo facendo un piano pluriannale ma quando oggi come facciamo oggi io sto pensando soprattutto ai concordati qualche anno fa dove si ipotizzava che dalla vendita di certi immobili si ricavassero determinate somme quelle somme oggi sono al 50% quindi quei concordati non sono traballanti sono in una situazione molto più che traballante e che cosa potrà accadere nessuno lo saprà se ad esempio pensiamo al caso Cipriota tanto per intenderci se il nostro imprenditore perché non pensiamo al consumatore dice io farò fronte con delle somme che ho sul mio conto corrente di Cipro e ha una raccolta forzosa del 60% benissimo come farà a far fronte non si sa benissimo lo metteremo in galero gli faremo pagare 50.000 euro effettuare tutte le comunicazioni e le pubblicità previste dalla normativa nei confronti dei creditori e degli enti e quindi comprese la trascrizione nei registri attestare il valore di mercato attribuito ai beni e ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione e questo diventa ancora più complicato vigilare sull'operato del liquidatore quando la proposta abbia questa finalità liquidatoria poi verificare l'elenco dei creditori verificare l'attendibilità della documentazione depositata ai debitori redigere l'inventario dei beni predisporre il programma di liquidazione predisporre un progetto di stato passivo e così via quindi abbiamo tanti aspetti che sicuramente rendono l'attività dell'attestatore quindi dell'organismo di composizione della crisi nella sua funzione di attestatore che diventa particolarmente complesso vado a concludere con un paio di ulteriori indicazioni che sono quelle relative all'accesso alle banche dati il comma 10 dell'articolo 16 ricorda che per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste il giudice ovviamente in via autonoma o l'organismo di composizione della crisi previa autorizzazione del giudice può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria nei sistemi di informazioni creditizie nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche Ivo compreso l'archivio centrale informatizzato tutto questo per eventualmente per incrociare i dati che sono stati forniti dal soggetto indebitato e sovraindebitato e capire se i dati che ci sono stati forniti sono dati corretti pensate all'imprenditore che dice ma non so se sono protestato o meno dico uno tanto per dirne uno a me è capitato un caso di uno che ha detto ma sì penso di avere un protesto a fronte di una visura protesta ne aveva 120 quindi è chiaro che l'accesso a queste banche dati può essere molto utile poi il legislatore si è preoccupato perché uno dei problemi più grossi che abbiamo è la tutela della privacy di pensare appositamente una norma che impone non al giudice ovviamente ma solo ai professionisti di distruggere entro 15 giorni la documentazione che ha ottenuto attraverso l'accesso a queste banche dati e dopo averla distrutta deve darne comunicazione a mezzo raccomandata o a posta elettronica con non oltre 15 giorni dalla distruzione cioè cessata la sua attività non ha senso che il professionista tenga questa documentazione non si capisce poi perché il professionista deve avere questo desiderio di tenere tutta la documentazione questo voyerismo assoluto delle banche dati per aggravare i suoi archivi e tutto quello che ne consegue però una volta che l'ha distrutto deve mandare questa comunicazione ovviamente perché perché così si accresce la sua responsabilità è una responsabilità che quindi ha dei profili ancora più preoccupanti perché se noi andiamo a vedere e andiamo a come dire spacchettare la norma oltre che articolo per articolo diciamo comma per comma andiamo a vedere che dietro ogni angolo dietro ogni comma si possono aprire delle responsabilità sia civili sia civili che penali per il nostro povero professionista o organismo di composizione della crisi da questo punto di vista quindi secondo me l'idea di svolgere un'attività estremamente delicata estremamente complessa e avere tante responsabilità è giusto che ci siano tante responsabilità perché è tale l'importanza che il legislatore ha voluto dare a questa disciplina però temo che andrà a fiaccare un po' il desiderio di presentare procedure di sovraindebitamento cioè nel momento in cui il debitore si trova in una situazione di questo tipo e va dal professionista poniamoci la domanda il professionista dirà lei ha la possibilità di accedere a una procedura di sovraindebitamento si può rivolgere un organismo oppure si può rivolgere al suo commercialista oppure se vuole gliela faccio direttamente io la procedura di sovraindebitamento perché questo tendo a ipotizzare sarà la prassi ma a quel punto dice ma se la faccio io poi mi assumo un sacco di responsabilità allora diciamo vabbè ma aspetti che vengano a pignorarle a casa tanto cosa vuole che le portino via lei non ha niente di pignorabile e a quel punto fra la lentezza di un pignoramento fra il blocco degli sfratti fra tutto quello che potete mettere insieme ribadisco sfortunatamente ma anche i ritermini per i terremoti tutte queste cose ecco che qui noi abbiamo uno scenario dove probabilmente rimanere debitori a vita e quindi il famoso debitori in fuga risulta essere meno rischioso o forse più conveniente rispetto ad una fase di gestione della procedura di sovraindebitamento l'ultimissima notazione è quella relativa alla pubblicità perché come diceva il dottor Limitone prima noi abbiamo sicuramente dei problemi di accesso alla pubblicità perché fuori dall'ipotesi di registro imprese quindi di iscrizione al registro delle imprese come facciamo a gestire questo tipo di procedure molto probabilmente il sistema informatico che può essere la piattaforma Falco o un'altra piattaforma perché anche il ministero diceva di voler unificare a livello nazionale le procedure fallimentari su una sua piattaforma superando Falco potrebbe aiutare ad un'analisi di questo tipo oppure fare un'anagrafe nazionale dei sovraindebitati quindi una sorta di albo dei sovraindebitati dove io che ho un credito nei confronti di un determinato soggetto posso accedere e quindi attraverso quel meccanismo elettronico andare a rendermi conto se esiste o non esiste una procedura un po' adesso proprio faccio un salto oltreoceano un po' come accade negli Stati Uniti nelle class action dove i promotori della class action costituiscono un sito apposito dedicato a tutti coloro che vogliono con il meccanismo dell'opt-in entrare all'interno e diventare parte di una class action e comunque avere tutte le informazioni che riguardano quel tipo di procedure oramai la predisposizione di un sito è una cosa estremamente semplice e veramente poco costosa ecco che questo meccanismo che ancora non trova tracce in nessun testo normativo perché ciò che è di elettronico troviamo nei testi normativi fino ad oggi è l'utilizzo della posta elettronica certificata ma anche la creazione di un sito internet dove si può avere la pubblicità dove si può avere accesso ovviamente ci mancherebbe altro con tutte le garanzie di riservatezza della privacy perché dobbiamo pensare anche questo però ecco quello potrebbe essere un meccanismo utile per permettere la giusta pubblicità pubblicità che costa di meno cioè quando si parlava prima di pubblicità sui giornali sui quotidiani pensiamo semplicemente all'esperienza delle esecuzioni immobiliari dove si spendono migliaia di euro per una pubblicità su un quotidiano dove probabilmente sono in pochissimi a leggerlo cioè così come è stato superato con la riforma del diritto societario dove è stata superata con la riforma del diritto societario la pubblicazione in gazzetta ufficiale degli avvisi di convocazione dell'assemblea nell'SPA permettendo quella sui giornali ecco che ancora una volta secondo me dobbiamo pensare ad uno strumento che consenta una maggiore facilità di raggiungimento della comunicazione è chiaro che se pensiamo al sovraindebitato del paesino di montagna con 350 abitanti è molto più semplice mettere un cartello di fronte alla chiesa o di fronte al comune che lo sanno tutti piuttosto che un sito internet però il sito internet costa veramente poco permette di raggiungere un numero illimitato di persone rispetto alle migliaia di euro che mi costa una pubblicità su un giornale probabilmente e quindi vado a concludere questo tipo di procedura così come disegnata è una procedura che appare assolutamente interessante bisogna capire però quali saranno i ruoli dei diversi soggetti coinvolti perché anche per lo stesso tribunale rischia di essere un po' un salto nel vuoto l'idea di dire ma il giudice delegato sarà lui che si occuperà delle procedure o il ruolo civile soprattutto per quello che è il consumatore può avere il suo primo problema ma considerando quanti sovraindebitati ci sono se partissero a raffica queste procedure di sovraindebitamento ecco che avremmo un ulteriore spaventoso intasamento del tribunale perché guardando anche la norma che fa riferimento al soggetto a ciò che accade e quindi questa chiamiamola interferenza o coincidenza fra procedure di sovraindebitamento e pignoramento in corso e quindi gli effetti di una procedure di sovraindebitamento sulle esecuzioni in corso l'automatic study di cui si parlava prima quindi abbiamo tutta una serie di problemi che nella pratica potranno andare ad appesantire notevolmente l'attività di un tribunale e allora la domanda che ci si pone è ok la garanzia assoluta di terzietà di una gestione di una procedure di questo tipo attraverso un tribunale ma è giusto che il tribunale debba gestire anche il sovraindebitato di 100 euro perché compra soldi grattevinci o dovremmo pensare ad una soglia adesso è ovvio che non sono io ad evocare un'idea di giudice di pace per amor del cielo per una gestione di queste procedure ma non penso che una procedure di sovraindebitamento da 100-200 euro sia lo stesso di quella di un imprenditore o che debba comunque comportare l'applicazione dello stesso parametro proceduramente forse più semplice ma un coinvolgimento così forte degli uffici di cancelleria e delle persone dei giudici all'interno di un tribunale allo Stato il problema è considerato nullo ma potenzialmente potrebbe diventare dirompente ecco che quindi questa normativa secondo me costituisce un punto di partenza un punto di riflessione il disegno di una nuova idea che è sicuramente utile e interessante sono assolutamente convinto che per evitare che la giurisprudenza incominci a imperversare anche in questa materia probabilmente dopo una prima applicazione sia necessario un intervento normativo così come già oggi si sta discutendo di un nuovo intervento normativo per andare a correggere certe criticità dei concordati preventivi probabilmente dopo un certo periodo di applicazione di questa norma sarà necessario un intervento per correggere quello che si vedrà sarà necessario correggere sul campo perché lo strumento è bello lo strumento è interessante ma rischiosissimo grazie grazie grazie